Marco una cosa che volevo chiederti benvenuto innanzitutto perché è sempre un piacere avere ospiti così diversi prima puntata della seconda della della seconda stagione un'esploratrice seconda puntata un esploratore altrettanto ma forse più di antartidi interiore più che esteri bravo si piace guarda leggendo i tuoi libri una cosa mi è saltata in testa subito devo essere sincero sono appassionato anch'io non ricercatore però diciamo curioso del mondo della spiritualità della ricerca interiore e ho trovato i tuoi libri incredibilmente facili da leggere dire cose complesse in maniera facile penso sia l'arte delle arti quando si comunica è una cosa che proviamo fare anche noi come formatori finanziari col nostro progetto che è lo spin off di questo ed è difficilissimo a volte però mi sono domandato ma nel campo della spiritualità della tradizione se vuoi religiosa anche se la parola religiosa sappiamo che può poi significati ambigui siamo sicuri che divulgare certe cose in maniera così semplice diretta non possa provocare anche degli effetti collaterali problematici in alcune persone che non sono pronte a recepire determinati significati o determinati concetti te lo dico perché anch'io spesso prima di risponderti mi chiederti chiederti che cosa vuoi significare tu con persone non pronte a recepire determinati e persone che come un bambino cioè se io do in mano la mia macchina che a 450 cavalli scusate ma è vero 4g 250 quali è un bambino che non ha la patente morirà essendo a schiantare sicuramente alla sera la prima curva alla stessa maniera ogni tanto mi domando caspita queste robe qui non le ho mai lette così semplici così chiare così potabili così cristalline ma come mai per millenni queste cose invece sono state spiegate in maniera così difficile da trovare difficile da completare attraverso la simbologia attraverso tradizioni quasi massoniche dove bisognava entrare pitagora dove star fuori a digiunare per mesi prima di entrare per sapere la verità oggi siamo in un mondo dove effettivamente questi contenuti li ritroviamo dovunque perché stiamo parlando di due target e diversi dato che facciamo un lavoro di marketing quindi il target a cui tu ti riferisci che è giusto è molto ristretto è una nicchia di mercato e ha bisogno di avere queste simbologie icone significati filosofie antiche moderne mentre il mio pubblico è esattamente quello che va a sentire l'omelia alla santa messa tu non sentirai mai una santa messa con omelia di quelli concetti filosofici astrusi è molto semplice quindi la tecnica di comunicazione che tu hai perfettamente colto ed è voluto fatto in questo modo è semplificata perché a me interessa quel tipo di pubblico non il cui il pubblico chiamiamolo super erudito che già sa anzi poi viene anche a discutere ea disquisire le varie tesi perché ovviamente ti è capitato sono i più i miei preferiti perché io sono un ricercatore santommasesco quindi difficile che mi fermo sulla teoria devo sempre aver la prova se non ho la prova non riesco ad andare avanti e quindi con questa prova la sostengo fino all'esasperazione perché poi la prova l'ho ripetuta l'ho rifatta e quindi dico è così e io ho avuto la prova appunto quindi chi mi legge è innanzitutto un pubblico femminile principalmente quindi stiamo parlando dell'ottanta per cento è femminile e chi mi legge è una categoria media neanche bassa media direi nella norma e persone che sono comunque interessate a discorsi ampi sulla spiritualità e sul senso della loro vita soprattutto perché la mia materia principale è il destino quindi quando tu parli destino entri subito in un mondo pazzesco poi ci sono i luoghi comuni che sono terribili di cui bisogna un po di stricarsi perché per esempio la parola destino è negativa nel nel pensare di tutti come la parola coincidenza è positiva quindi tu nel tuo comune dici sempre è andato incontro al suo destino è stato destino e quindi la metti subito nel negativo se invece dico coincidenza sai che coincidenza mi è successo no ma veramente è sempre magica quindi andare a relazionarsi su questi due termini già per me la difficoltà perché l'essere umano è condizionato e quindi essendo condizionato devi saperlo prendere se no gira subito la testa ecco perché il pubblico a cui mi rivolgo deve essere il più possibile semplificato premettendo poi che l'umanità è fra come dire è fatta diciamo a grandi blocchi il primo blocco è barontico secondo blocco è anontico il terzo blocco è intelico che tu sono tre parole che arrivano dal greco che significa barontico baros appesantito attaccato alla materia è la maggior parte al 75 per cento poi abbiamo l'anontico dal greco anon in ascesa quindi si sta elevando quindi va verso la spiritualità e poi c'è l'entelico dal greco entelis che è un saranno 300.000 persone su tutta la terra che sono alla fine del loro percorso e quindi hanno raggiunto la saggezza e l'illuminazione quindi questo è il percorso dentro queste tre grandi fasce ci sono poi 8500 sotto fasce ma alla fine la maggioranza dell'umanità deve essere ancora risvegliata ed ecco perché poi accadono tutta una serie di certi meccanismi per il quale il risveglio arriva come quello che sta accadendo adesso in questi ultimi 18 mesi quindi nulla accade per caso mai quindi anzi potrei anche aggiungerti nulla accade per caso e tutto è già accaduto quindi su questo possiamo poi affascinarlo a voglia a voglia a voglia quindi la tematica del destino è interessante e sicuramente credo sia stata tra le tra le tue uscite librarie quella che ha colpito di più sei partito subito a bomba perché sei finito già pronti via da bonolis programmi televisi perché credi che le persone siano così affascinate dalle coincidenze è una cosa che si ritrova tantissimo anche noi girando molto nel mondo della della spiritualità del new age sentiamo spesso le persone molto attente alle coincidenze perché è qualcosa che affascina soprattutto chi appartiene a questo mondo questo tipo di fascino secondo te da cosa deriva e che cosa ci può a che cosa ci può portare essere più attenti alle coincidenze le coincidenze sono quei lampioni che si accendono su quel viale ombroso e oscuro che è il tuo destino quindi tu più segui le tue coincidenze più tu saprai dove stai andando e cosa ti sta accadendo le coincidenze accadono tutti c'è uno studio americano molto serio che dice che a ogni persona accadono circa otto coincidenze al mese quindi quante ne vedi tu dalle piccole alle grandi non ha nessuna importanza se è spettacolare o una piccola coincidenza ma sai qual è il problema che molta molta gente non sa esattamente cos'è la coincidenza se io e te siamo amici da dieci anni prende un aereo a terra a bangkok e ti trovo su un altro strano un altro nastro a raccogliere le valigie e ti guardo la maggior parte delle persone dice tocca coincidenza che tu e non è una coincidenza se io ero sull'aereo e mentre atterravo ripensavo quella puntata che ho fatto dieci anni fa con te ma non potrò mai immaginare che tu sei la sotto scendo e ti trovo è una coincidenza la coincidenza devono coincidere due punti uno deve partire per forza da te e l'altro non deve partire minimamente da te dall'universo se la guidi minimamente non è più una coincidenza quindi questa per esempio viene classificata con coincidenza premonitiva cioè io ho pensato a te senza poter immaginare che tu eri la al nastro poi potrei andate spiegare perché ho pensato a te che cosa succede col pensiero che cos'è il pensiero l'energia molecolare dove arriva cosa fa perché uno poi vai a sia passione perché nulla accade per caso però questa è una coincidenza promettiva come i sogni i premonitivi no perché io sogno un fatto che accade poi accade dove mi sono agganciato che informazione ho avuto come ho fatto a saperlo ci si può allenare a leggere ma assolutamente sì assolutamente sì innanzitutto la prima regola è il classico qui e ora perché noi siamo nei tre tempi noi siamo viviamo una dimensione lineare quindi noi siamo abituati andare solo in una direzione ovvero in avanti verso il futuro peccato che il tempo passato non esiste più chris namurti grandissimo filosofo indiano diceva che noi passato l'abbiamo solo la nostra testa infatti l'ha chiamato tempo della psiche vada dire che un tempo che sta solo dentro la tua testa non esiste più però se tu ce l'hai lì dentro in quel momento metti tu stai camminando a passeggio qui per i portici di corso vittorio emanuele con un tuo amico che ti sta raccontando una storia noiosissima fai così con la testa a certo punto passi davanti a un ristorante dove ti ricordi che tre anni prima eri a mangiare con una gnocca pazzesca tu ti stacchi da quello che sta dicendo lui ed entri nel tuo tempo della psiche ti rivedi l'ha seduto che stai mangiando e poi c'è appunto vedi che cerchi di baciarla porti il portone e non ti dà il bacio però dopo un mese siamo andate le maldive oh ma mi stai ascoltando dico no scusa ero sovra pensiero non mi sono un attimino perso no tu eri nel tempo della psiche non ci sei più ma hai visto quella come era vestita quando è passata davanti a noi non l'ho vista tu non vedi neanche più le persone tu vai avanti in automatico cioè i tuoi sensori ti permettono di andare per terra ma tu tutto quello che ti capita davanti non lo vedi più perché stai vedendo tu pensa che l'umanità passa circa il 50 per cento della sua giornata nel tempo della psiche se nel tempo della psiche non ti accorgi delle coincidenze non le vedi la stessa cosa dei casi del futuro il futuro altro è che una scatola vuota che tu riempi continuamente di illusioni tiziano terzani 2003 quindi tu cosa fai continua a farti delle illusioni su qualcosa che arriverà che accadrà ma se tu non ci stai lavorare adesso quella roba lì non arriverà mai quindi futuro passato insieme sono già il 60 per cento dei tuoi pensieri 40 per cento è il presente se tu riuscissi a amplificare questa fetta sei molto più percettivo sei molto più consapevole come un terminator ti accorgi tutto quello che ti accade intorno e allora comincia a cogliere tutti i segnali perché i segnali magari ti passano di fianco e tu non li hai visti secondo te marco leggere poesie può essere utile a tradurre i segnali delle coincidenze sì perché tutto quello che riguarda la nostra parte femminile del cervello è incaricata a elevarci così come il maschile è incaricato ad abbassarci ovvero a pensare al nostro ego noi non è che non possiamo avere il nostro ego dobbiamo averlo è che la gente poi ne approfitta diventa egoista e basta però noi dobbiamo sapere convivere con le due realtà ego e altro l'altro è femminile leggo il maschile quindi quando io leggo poesie o scrivo o compongo o sono uno strumento io do nutrimento la mia femminilità perché perché la femminità ha un solo cibo chiunque sia un uomo una donna si nutre solamente di creatività per nutrire la femminilità devi dargli creatività quindi leggere cose creative fare cose creative elevarti a livello spirituale leggendo cose del mio di questo campo allora sì tu puoi cominciare a vedere le coincidenze perché coincidenze possono essere anche dei messaggi ma devo faccio un esempio stupido ma significativo fellini doveva decidere il protagonista del suo film uno di ultimi film che ha fatto che era e la nave va ed era indeciso tra due che avevano esattamente più o meno rompere i teti c'era veramente molto indeciso aveva fatto una lista nome di uno nome dell'altro aveva fatto tutti gli elenchi non sapeva decidersi stava rientrando a rimini nel suo bel treno con lo scompartimento ancora con quei finestroni grandi a un certo punto così casualmente ma chi cavolo prendo adesso che lo prendo alzo lo sguardo così e in quel preciso istante passava un enorme cartellone pubblicitario con scritto a lettere cubitali il nome di battesimo di uno dei due attori lui ha sorriso ha detto grazie grazie e ha preso l'attore poi l'ha raccontato questo si chiama sincro destino tu sei capace di sincronizzarti con la tua vita è come se tu continui a prendere come in un bazar tutto quello che ti serve da quello che ti offre il mondo che ti offre l'universo in quel momento ed è un continuo è un magnifico film che si sviluppa però devi essere presente se nel qui ora anche perché nel cui ora tu puoi sviluppare una dote fondamentale per la nostra vita che è l'intuizione l'intuizione dura fino a 2,7 secondi l'intuizione serve in qualsiasi tuo aspetto della vita sia professionale che no però se tu non sei nel qui e ora tu l'intuizione ti si abbassa totalmente poi l'intuizione arriva dalla ghiandola pineale che è una ghiandolina che sta al centro del nostro cervello piccola come un pisellino ma potentissima perché governa tutto il nostro sistema endocrinale e ormonale ci dà tutta una serie di regolamentazioni ci dà tantissime endorfine ma come nutro questa ghiandola pineale che poi si collega con l'ippocampo col famoso terzo occhio qua l'intuizione cosa fa gli indiani perché hanno il tondino rosso qui perché io vedo con questo occhio quello che non vedo con questi due e quindi come la posso nutrire c'è anche qui c'è un solo nutrimento che è la luce la luce solare tutte le persone che vanno sempre in giro che gli occhi da sole perennemente hanno la loro ghiandola pineale che non funziona niente l'intuizione zero ecco questo un po dei messaggi c'era l'allieva di jung ovviamente parlando di coincidenze non può che essere spontanea l'associazione a lui che si chiama marie von franz io studiando un po per preparando per incontro con te mi ha colpito molto una frase che dice che parla del fatto che tendiamo ad accorgerci della sincronicità o comunque delle coincidenze soprattutto nei momenti topici della nostra vita ovvero morte di una persona importante barra amore intenso mi viene da dire sei d'accordo è ovvio quali sono i momenti in cui anche le persone addormentate si svegliano perché quando c'è un forte shock o un forte sentimento magari sei talmente più concentrato nel presente che ti accorgi di più delle coincidenze è un'interpretazione che condividi mi perché jung disse dicasi coincidenza un fatto accidentale che casuale non è quindi lui dimostra che l'accidentalità non esiste e non può essere casuale andare a riporre le coincidenze solamente nei fatti topici quindi di amore di morte o di salvamento di vita è veramente riduttivo se tu sei capace di cogliere i messaggi per te jung stesso ha coniato un altro nome secondo me geniale che è la coincidenza luminosa con la n invece che l che significa che la coincidenza che all'apparenza vista da fuori potrebbe essere anche piccolissima ma di una potenza inaudita per te che che diventa a volte anche mistica talmente potente e quindi la luminosa in acqua e con luminosità come coinvolge solamente la persona che la riceve e possono essere anche coincidenze molto piccole io mi diverto mondo anche perché io sono uno che attrae coincidenze continuamente quindi le persone che mi frequentano in quel momento poi vivono una serie di coincidenze pazzesche quindi la sincronicità la sincronicità è bella da raccontare perché diventa inaspettata diventa come dire illuminante io un archivio di quasi 300 coincidenze quindi mi diverto a catalogarla narrarle a a rivederle perché uno dice non è possibile invece uno di abituarsi che la vita è magia la vita è veramente una magia se uno la sa prendere comunque con quel tipo di approccio perché vedi il destino ha delle leggi destino che cos'è tanto per cominciare che cos'è il destino diciamo il tuo destino ma d'incontro al mio destino il destino ti dico questa frase che la più bella che ho trovato che la disse la blavasky che la fondatrice della società teosofica il destino altro non è che il programma che l'anima decide di svolgere all'interno di quel corpicino in comune accordo con forze superiori perché utile alla sua evoluzione quindi in questa frase abbiamo racchiuso tutto il senso della nostra vita un programma una scelta di vita quindi io vedo questa vita e chiedo di autorizzazione e la svolgo perché utile alla mia evoluzione poca importanza quanto dura se dura dieci anni o cento ha più importanza che io compia che io attui il programma e faccia con l'esperienza che potrebbe essere anche quella di finire su una sedia a rotelle che sarebbe quella anche della sofferenza della compassione non solamente dell'esultanza della gioia quindi tutto questo è parte del percorso animico e qui ti dico subito una cosa scioccante preparati perché di quello che sto per dirti è stato da me studiato a lungo e adesso non è certo questa la sede ma ho le prove quindi avendo le prove posso sostenere di più la mia tesi terrà conto con questo tipo di aneddoto uno dei più grandi medium francesi che era un giornalista normalissimo pubblicista prima della seconda guerra mondiale di nome marcel balladour ad un certo punto si accorge che ha delle voci ha delle sue alte storie si rende conto che sta canalizzando sta sentendo persone che non sono in questo mondo e tra le quei tra le quali c'è una molto forte che continua a farsi sentire che è un'entità altissima una guida spirituale altissima che dice di chiamarsi silver birch che vuol dire in inglese betulla d'argento praticamente in una delle sue ultime vite era questo importante capo indiano si crea un gruppo di ricerca di scienziati ricercatori filosofi cia gente tosta che formano quello che si chiama tecnicamente un cerchio e si mettono con marcel balladour a registrare a fare trance di domande da cui viene fuori un libro meraviglioso che si intitola civil birch che è del 1938 a sinistra in inglese a destra in italiano e leggi tutte queste domande a certo punto pagina 155 c'è la domanda che se vogliamo lecita umana il gruppo chiede all'entità ma quando noi lasceremo questo mondo che tipo di corpo avremo ancora così come questo che possiamo toccare sentire o cosa avremo la risposta per me fu sconvolgente lui disse avrete un corpo ancora più percettivo di quello che avete ora ma ricordatevi una cosa che il mondo reale è il nostro non il vostro voi siete solo l'ombra gettata dallo spirito e il mondo reale è il nostro ma di questo voi potrete rendervene conto solo ed esclusivamente quando tornerete di qua se tu prendi questa informazione la scaraventi nella tua realtà per e la fight la senti la palpi veramente ti devi staccare da tutte le ansie da tutte le problematiche tutto quanto ma questo a questo è un film io un caro amico medico in cui facevo ricercatore facevo delle tournelli diceva immagine tu quando arrivi al mondo ti mettono una mascherina quelle con dentro tutti i giochi 3d tutto quanto tu sei appena arrivato e non te la tolgono più c'è la guarda ce l'hai lassuna quella lì coincidenza hai visto che l'ho fatto ecco incidenti di tutto adesso poi la prendi la fai vedere se no sembra che stiamo facendo una credo si veda ok allora a un certo punto tu hai questa mascherina e non te la togli più ok bravissimo perfetto tu hai questa mascherina tutta la vita e non te la togli più ok quindi per te il mondo è quello quando arrivi alla fine della tua vita arriva qualcuno che ti toglie la mascherina e quindi tu cosa fai tu hai la mascherina e fai ah porca miseria è vero come avevate messo la mascherina quando sono nato cioè non ti non realizzi perché attraverso il fiume lete l'oblio quindi hai l'amnesia di tutto quanto fai la tua esperienza ma questo è il meccanismo questo è e ce l'abbiamo tutti uguale questo visore e no ognuno ciò si cambia la definizione delle immagini ognuno ha il suo film a secondo il suo grado di evoluzione a che punto è nel percorso posso modificare il mio film poco diciamo che i guardi sto scrivendo sto scrivendo no modificare poco perché tutto è già accaduto attenzione anche qui non entriamo nel concetto che c'è un disegno una mano un dio che decide è tutto quello che devi fare in questa vita non funziona così non c'è nessuno che decide tant'è che non c'è nessun tribunale che ti giudica quando tu vai di là assolutamente però c'è sicuramente un fatto determinante che la parola tempo qui abbiamo il tempo di là non c'è il tempo quindi di là non c'è neanche l'eternità perché l'eternità è una parola legata al fattore tempo la bellissima la battuta di bridge e bardo quando mi ricordo più quale marito gli disse ti amerò per l'eternità lei lo guardò gli disse cos'è una minaccia cioè a me mi viene un'ansia che mi chiami tutte l'eternità vabbè un paio di cento anni ma tutte l'eternità a me mi viene l'ansia il posto fisso il posto fisso quindi l'eternità è fortemente legata alla nostra realtà mentre il l'infinità è legata all'altra parte quindi comunque sia tutto è già caduto nel senso che tu immagina che prima di arrivare al mondo ci sia uno stadio e tu sei nel campo di calcio tu sei un centrocampista che sta giocando e tu sei anima quindi non sei ancora arrivato sei sugli spatti e osservi la partita del centrocampista ti piace fai falli fa il gol il cartellino giallo tutta la sua vicenda i 90 minuti sono la sua vita però vedi che la sua partita che sta facendo confà alla tua richiesta di evoluzione quindi chiedi permesso chiede autorizzazione alle guide spirituali superiori te l'autorizzano scendi dagli spalti entri entrando dimentichi il fatto di aver già visto la partita e diventi il giocatore che nasce e fa tutta la sua partita quindi questo è tutto già accaduto ma tu mentre sei qua a giocare che cazzo serve allora che devo fare è come giochi forse no aspetta finisco mentre tu sei qua a giocare stai facendo tua partita giorno per giorno tu adesso sei qua a parlare con me ok tu anima quando eri di là avevi già visto che questi parlato con me d'accordo ma quello che tu stai facendo adesso l'hai deciso tu d'accordo non è che c'è un disegno che dice che tu devi venire parla con me poi qui potrei aprirti un'altra porta molto intrigante che è quanto tu sei libero di decidere apriamo che libero arbitrio ai tu in effetti in questa vita ok però sei tu che ti stai muovendo d'accordo sì sì ecco hai capito quindi la differenza qual è è il tempo tutto è già accaduto quindi come vengono scelte le vite infatti c'è anche il demone di lam lan che parla di questo cioè teoricamente che sembrerebbe quasi un paradosso tu potresti vedere tutte le vite passate presenti future nel cosmo perché tutto accade simultaneamente capisci teoricamente infatti si chiama il demone della ban perché è un demone cioè come noi riusciamo col cervello che abbiamo adesso a comprendere questo tempo senza tempo cioè io non devi essere più evoluto se non sei voluto rimani dentro oppure c'è qualcosa che possiamo fare in questa vita terrena non so qualche tecnica per intuire un po meglio questo concetto che finché rimane razionale teorico credo sia impossibile allora sia una logicamente un paradosso allora quello che sta accadendo adesso è per esempio una tecnica noi siamo dagli anni 60 entrati dall'era dei pesci all'era dell'acquario l'acquario è l'era del risveglio ci sono dei maestri che stanno guidando quest'era ti ricordi aquarius gippis la fine degli anni 60 tutto nasce da quel momento che viene preso in consegna questa era che durerà parecchie centinaia di anni e siamo solo all'inizio ma ha preso un'accelerazione pazzesca se tu vedi per esempio la funzione della 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 chiesa cattolica come crollata o l'arrivo di nuove discipline olistiche di vario genere c'è un'apertura che negli anni 70 non c'era negli anni 80 non c'era ovviamente anche qui c'è chi ne approfitta chi diventa un milantatore che fa delle cose pazzesche a tutto business però comunque c'è un risveglio a livello orizzontale molto più ampio arriva arriva questa questa sberla della pandemia lasciamo penso che complottiscono complottiscono l'importanza l'importanza oggi è che è comunque parte del risveglio cioè è necessario non ti puoi risvegliare se non passi dal dolore punto allora l'umano ha sicuramente una memoria cortissima la terra cia miliardi di anni 3 miliardi 600 milioni di anni 2000 anni perché noi umani riusciamo arrivare a 2000 anni all'età della croce di cristo e pasta paragonati duemila anni della terra paragonati la nostra vita sono sette giorni e riusciamo arrivare la ok quindi puoi immaginare negli ultimi cento anni cos'è un mezza giornata ok nell'ultima mezza giornata della nostra vita paragonata la terra abbiamo avuto la prima guerra mondiale la seconda guerra mondiale con circa 100 milioni di morti la spagnola con non so quanti milioni di morti e stiamo qui tutti a trepidare perché perché nella legge degli opposti che una delle leggi che governa questa dimensione noi abbiamo avuto un opposto positivo per troppo tempo cioè un conto che tu vai studiare la seconda guerra mondiale sui libri di storia senti che c'è stato il vietnam che non ti riguarda ma non l'hai vissuto ma non l'hai vissuto non hai fatto l'esperienza adesso stai cominciando a fare secondo i miei punti di vista un'esperienzina non stai facendo un'esperienzona confronto ai nostri neanche quali avi stiamo parlando dei bisnonni o nonno che hanno fatto veramente la guerra cioè mio padre a 91 anni ha fatto la guerra lo dicevo sempre per motivarmi soprattutto durante la prima ondata dicevo cazzo però comunque non ci stanno bombardando dalla siamo chiusi in casa come mia mamma perché anche mia mamma è nata nel 35 quindi l'ha vissuta e se la ricorda siamo chiusi in casa però almeno c'ho netflix e non arrivano le bombe in poi ordinare quello che ti pare e pure e non ti manca il pane soprattutto il pane eppure eppure comunque è stata comunque un ammazzata per tutti è stata un ammazzata perché in base a questo dolore ci sarà un enorme quantità di risveglio sai che proprio pochi giorni fa ho letto una ricerca che in realtà dice che sicuramente durante la prima parte della pandemia c'è stato un abbassamento del tono dell'umore delle persone perché è normale bisogna passare attraverso il dolore certo tu ma adesso non mi ricordo più purtroppo ce l'ho scritto da qualche parte perché lo devo dire anch'io è un prossimo corso che dobbiamo fare e negli appunti me lo sono perso però credo wall street journal roba del genere dice in realtà succedere in questa fase che si spera essere un po risolutiva di questa pandemia le persone hanno cambiato la percezione su tantissime cose hanno ri ricollocato le priorità cioè il fatto che come sempre cazzo quando uno esce dalla prigione è rieducato quindi c'è ed è stato misurato dalla statistica che effettivamente le persone sono più serene di prima della pandemia hanno magari dato un peso migliore alle cose il fatto di lavorare magari più spesso da casa stare più vicino ai cari quelli che sono tornati dai paesi tipo l'inghilterra il belgio e sono tornati al sud italia hanno capito magari che c'erano delle cose che avevano la priorità preordinata eccetera hanno riqualificato i valori i valori che si erano dati una volta per scontati e scontato non è nulla come il famoso abbraccio o altre situazioni quindi adesso diventa tutto oggi è difficile stringere la mano a qualcuno è difficile abbracciare qualcuno se sei imbarazzato mentre prima era una cosa normalissima ecco quindi tutto questo procedimento che comunque volge al termine questo dal mio punto di vista e anche da previsioni di cui sono stato diciamo interessato a conoscere in primis le previsioni del cielo perché poi tutto è scritto nel cielo sembrerà strano ma delle mie branche di studio quello che dice il cielo in funzione di quello che accade qua sotto ci vuole una come dire una capacità analitica di conoscenza degli astri dell'astrologia e vi dicendo pazzesca ma se tu mi dici se io fossi un esperto di questo tu mi dici la tua data di nascita il tuo il tuo luogo e ora di nascita io ti faccio una carta astrale io potrà già potrei già leggere nella tua carta astrale quello che ti è accaduto prima quello che ti accade adesso e quello che ti accade dopo e tu cosa fai in virtù di quello che io che ti dico che ti è caduto prima se io te le prendo tutte 10 tu dici cavolo quindi vuol dire che quello che mi dirai che mi accadrà troppo è sicuramente è sicuramente vero quindi quando tu cominci a destra beh qui per una due cento volte cominciano ecco diciamo che il cielo quindi la situazione attuale che motivata dal transito di urano in quella casa cosa è tutto in movimento e diciamo che da qui a febbraio tutto finito ok poi non so se arriverà qualcos'altro ma questa situazione finisce si esaurisce ecco questo perdite cosa dice il cielo ti ringrazio perché noi ad aprile abbiamo un evento a pala congressi di rimini con duemila persone iscritte potete prenotare andate pure abbiamo pagato la prima rata del non sappiamo se poi si riuscì a fare però io dopo che mi hai detto così ecco si tende sempre a scherzare sull'astrologia poi in realtà una cosa seria fa parte di tradizioni eppure io sono interessato specialmente alla cultura vedica indiana l'astrologia c'era anche dai veda assolutamente molto prima di qualsiasi altra tradizione occidentale che conosciamo diciamo che il fondatore dell'astrologia moderna è ermete trismegisto ermete tre volte grande che di alessandria d'egitto e col chi balion con le sue sette leggi del cosmo e tutto quello che c'è dietro però è una verità assoluta secondo me non è non è non è non è discutibile assolutamente noi siamo dentro questo grande meccanismo e ci muoviamo ignari o consapevoli di tutto quello che ci attende la maggior parte dell'umanità è inconsapevole quindi va incontro al suo destino muovendosi come diceva gorgieff da addormentato cosa vuol dire addormentato vuol dire che sono nelle condizioni che mi sono state generate e date io dico sempre una cosa quando tengo i corsi o le conferenze ricordatevi tutti che fino a 21 anni siamo stati tutti vittime tutti nessuno è protagonista del suo destino fino a 21 anni quindi tu che puoi aver fatto qualsiasi tipo di vita ricordati che fino a 21 anni tu sei stato vittima tre volte 707 714 14 21 sono tre sette anni la vita è suddivisa sempre per sette nati questo dice anche steiner vi dicendo ma per dirti questo è perché noi abbiamo arriviamo arriviamo al mondo come un software puro privo di qualsiasi app di qualsiasi programma di qualsiasi installazione chi è che ci mette le installazioni chi è che ci mette dentro i programmi i genitori in primi si responsabili sono papà e mamma poi abbiamo i nonni poi abbiamo i parenti poi abbiamo la società la scuola l'oratorio ognuno mette il suo programmino e quindi noi veniamo condizionati a seconda di cosa di dove sei nato in che città in che nazione in che cultura rurale o manattan e a seconda di questo tu ricevi una maria di condizionamenti gurgev dice colui che pensi di avere il liber arbitrio deve essere anzitutto risvegliato quindi non più addormentato ma deve avere questo punto la capacità di scegliersi a quali condizionamenti affidarsi non che me li inculcano stop è questo lavoro difficilissimo difficilissimo se tu cresci in una famiglia di atei quindi gente che ti dice che non esiste nulla da quando c'è l'intelletto per capire è difficile che tu diventi uno che crede sarai ateo tutta la vita ma i genitori che ti hanno detto che non esiste nulla non è che sono due studiosi filosofi ricercatori sono due panettieri magari e allora chi gliel'ha detto a loro gliel'hanno detto quando erano bambini nonni quindi c'è questa catena che continua e finché non c'è qualcuno che la sa interrompere tu continuerai a vivere questi condizionamenti e condizionamenti sono terribili noi abbiamo un solo nemico nella nostra vita che dobbiamo combattere e tutti mi dicono sempre noi stessi no no sono gli altri gli altri è il nostro nemico perché vedete sempre ben scegliere chi sono i vostri compagni di viaggio perché vi potrebbero in un attimo disintegrare la vostra vita e qui apro un'altra branca che ci fanno il primo dopo che la potenza del pensiero cioè il pensiero fa delle cose devastanti che poi la fisica quantistica quindi è un'energia che viaggia al doppio la velocità della luce che può creare tutte le realtà che vuoi guarda cosa sta accadendo adesso qui con le lotte pro contro dicendo è tutto dettato da questo pensiero tu lo sai che pensieri grande piccolo macro micro i pensieri sono una come dire dei piccoli lampi di luce che avvengono nelle sinapsi come ci sono i lampi di luce che avvengono nel cielo e quindi il cielo è il nostro grande cervello e dentro abbiamo un nostro piccolo cervello quindi tutto sempre collegato quindi chissà chissà il pensiero la potenza del pensiero riesce a fare quello che vuole nella sua vita non è solamente una legge di attrazione che poi la legge di attrazione esiste dai tempi di Gesù quando Gesù camminò sull'acqua erano tutti i discepoli sulla barca che lui in ritardo arrivò camminando sull'acqua e tutti i discepoli disse ma come fa maestro a camminare sull'acqua e pietro che non sapeva neanche notare disse ma tutti potete farlo se ci credete tutti se avete fede potete camminare sull'acqua ah sì faccio vedere tu certo io fede ve lo faccio vedere esce dalla barca fa tre metri cammina sull'acqua e poi sprofonda dentro lo vanno a riprendere perché stava affogando quando viene fuori ma cosa ti è successo è che ho cominciato a camminare sull'acqua poi c'è appunto non ci credevo manco più io che stavo camminando sull'acqua ma sto camminando veramente sono finto dentro e lo stesso uguale accade per noi niente è impossibile tu puoi tirare giù qualsiasi tipo di porta se ci credi non ti ferma nessuno quindi c'è una cosa che mentre parlava io vada andiamo a l'anno rando lampi come è un temporale questa puntata è citato tiziano terziani e citato questa influenza negativa degli altri noi mi ricordo questo passaggio del suo libro un ultimo giro di giostra credo sì dove lui vabbè si sa no ha stato malato è stato malato fino alla fine ma e a lui piaceva tantissimo andare ritirarsi nel himalai a meditare per mesi settimane e a fissare questa candela questa fiammella e stava da dio tutti i sensi e poi siccome era una persona sincretica oltre a questo tipo di terapie aggiungeva anche delle terapie occidentali convenzionali quindi doveva tornare in occidente andava in america cioè la chemioterapia eccetera tv tornava in italia eccetera e diceva appena metto piedi in italia faccio la spesa supermercato mi metto in fila e tutta la mia illuminazione finisce e perché sento il nervosismo degli altri se sento l'atmosfera e mi dice quanto poco valgo se non sono in grado di essere illumina fondominato insomma in grado di essere nel cui ora è beato anche nelle condizioni meno agevoli è possibile visto che anche tu hai detto una cosa simile no gli altri ci influiscono è possibile e raggiungere una condizione desiderabile di serenità anche vivendo in un luogo come ad esempio milano nell'ora di punta che sei di sera quando devi prendere la 90 o no è un esempio terribile questa me quando devo fare il peggio dico sempre terribile la 90 proprio immagino magari un mese invernale con un caldo pazzesco ok un caldo pazzesco dietro 90 allora anche qui è sempre dal secondo del livello di evoluzione dell'essere umano perché io posso star bene anche nel posto più incredibile mi fa venire in mente è un l'ultimo capolavoro di mark twain che scrisse prima di morire che il vagabondo delle stelle dove lui narra dei viaggi pazzeschi dentro una camicia di forza quindi lui riusciva addirittura a staccarsi da quel corpo andare in mezzo alle stelle ma camicia di forza che allora stiravano e che tu non potevi durare più di tre giorni perché morivi cioè non potevi neanche tu respirarvi proprio con un frammento di respiro e basta o ti speccavano le costole e tutto questo libro che è impressionante narra di questi viaggi pazzeschi che lui poteva fare che poi tra l'altro non sono altro che viaggi astrali così chiamati il corpo astrale che si muove tutte le notti e che viaggio in vari mondi ma il concetto fondamentale qual è qual è che noi continuo ripeterlo non siamo tutti gli stessi quindi ci sono persone che stanno bene nella 90 si trovano a loro agio e altri invece che devono fare uno sforzo e quindi staccarsi da quella situazione e con la mente andare verso la luce e trovarsi in un'altra situazione per non vivere quella situazione oppure ancora un livello medio amo la gente e quindi sto bene anche in quella sono consapevole di questo e quindi ci sto bene tutto questo parte da una da uno studio fondamentale che saper riconoscere che il mondo è duale e quindi devo saper accogliere tutte e due gli aspetti da dove comincia la dualità comincia da noi noi siamo duali abbiamo noi nello young famoso simbolo della goccia bianca col pallino nero la goccia nera col pallino bianco quindi si fondono e devo essere capaci vedere i 21 quindi due diventano uno l'accoglienza significa che tu sai che non può esistere una parola senza l'altra è inutile che tu dici che vuoi la pace perché tu la pace come idealizzazione non l'avrai mai perché perché tu conosci la parola pace solo perché c'è la parola guerra e quindi le due parole sono inscindibili e questo è il percorso di di crescita no cioè di saper dare significato perché c'è il suo posto tu vuoi stare in salute perfetto ma sappi che c'è la malattia non puoi non avere la malattia se non avresti neanche la salute è così per ogni aspetto se uno comincia ad entrare in questa logica quando gli arriva la malattia l'accoglie e cerca il suo significato perché poi la malattia è il fatto ultimo di qualcosa che è accaduto non è il fatto primo è il fatto ultimo la manifestazione del corpo che ti dice quando arriva il tumore vuol dire che tu hai già vissuto la tragedia steve jobs che si è ammalato il tumore al pancreas perché si è ammalato perché il pancreas rappresenta la metamedicina la perdita della cosa più cara che hai io ho perso la mamma esattamente 30 anni fa in questo periodo di tumore al pancreas perché aveva avuto praticamente la certezza la consapevolezza nonostante fosse separata a dieci anni da mio padre che non sarebbe più tornato proprio perché in quegli anni lui aveva chiesto il divorzio perché aveva intenzione di sposarsi con un'altra donna con la quale poi si sposò realmente lei si ammalò e in breve se ne andò tumore al pancreas steve jobs la stessa cosa perché perché gli avevano portato via la apple poi lui riuscì a riprendersela ma ormai era in atto e quindi lo sfogo ultimo è la malattia e più è pesante più tu ci tieni più diventa un'esplosione quindi il pancreas poi non perdona lui poi riuscito a sopravvivere di più perché ha fatto il trampianto dicendo ma non perdona per quello quindi saper prendere anche i messaggi che avevano nel mondo duale torna a piombo su signor terzani che per me è veramente un grande a parte il suo libero fantastico che ogni d'ordino mi disse che riuscì ad andare in giro per il mondo uno che fa il corrispondente de spiegel vi dicendo andando in giro in treno in carrozza in mulo fu di non prendere l'aereo per un anno perché gli avevano detto che sennò cadeva se si è roba da premio nobel per me solo per la pazienza anche se poi fece questo libro che vendette veramente un botto c'è un'intervista che gli hanno fatto due mesi esatti prima di morire il 27 maggio 2004 e lui se n'è andato il 27 luglio 2004 era su nel suo rifugio si negli appennini negli appennini toscani e a un certo punto in questa bellissima intervista l'intervistatore gli fece una domanda ma torneremo a sorridere e lui diede questa risposta guardi c'è una cosa che mi ha colpito nei miei viaggi in india che un gruppo di dipendenti la mattina prima di andare a lavorare dentro l'aria condizionata tutto il giorno si trovavano nel parco di fronte e si mettevano tutti insieme a parte che poi davano da mangiare anche le formiche che trovava una cosa abbastanza inusuale per noi occidentali ma un certo punto si mettevano tutti in cerchio e poi tiravano sulle braccia e facevano e tiravano giù e poi ancora e quindi quale quale cosa migliore di non cominciare una giornata facendoti una bella risata e finire la tua giornata facendoti ancora una bella risata quindi quello che dico io oggi 27 di maggio ridete 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 e niente altro questa è la risposta che io le posso dire quella cosa lì a me mi colpì moltissimo e cominciai a fare una ricerca e trovai uno scienziato giapponese che ha vinto il max planck award che la più importante il più importante premio scientifico mondiale quindi quando riceve un premio di quel tipo vuol dire che tu sei riuscito a dimostrare se no non te lo danno perché lui aveva scoperto un gene che si attivava dentro di noi e bloccava una forma molto aggressiva di diabete tipo b un gene che si attiva dentro di noi senza l'aiuto di nessuna molecola di nessun di nessun farmaco quindi com'è possibile che abbia scoperto questa cosa come si attiva questo gene si attiva con la risata cioè tu ridi e questo gene che si attiva blocca la diabete e l'ha dimostrato l'ha potuto ripetere e provato ha preso il premio nel 1990 lui si chiama kazu murakami scrive un libro che si chiama il codice divino della vita dove ci sono dentro delle informazioni che tutti dovrebbero sapere e dove dice che un certo punto noi abbiamo miliardi e miliardi di geni dormienti che si azionano come un interruttore on e off a seconda del tuo stato emotivo quindi se tu sei arrabbiato triste e depresso incazzato per qualsiasi cosa si aziona ti daranno ossidazione depressione malattia instabilità se invece tu ti svegli e sei contento felice sereno a prescindere si azionano ugualmente ti daranno antidepressione antiossidazione salute e benessere e questi geni non stanno sono a proprio comando non è che decidono loro sei tu che decidi quindi più tu stai bene più tu prendi la vita in una certa leggerezza quindi comincia a collegare il film il mondo reale quello prendere le cose un attimino con distacco sappi che le disgrazie arrivano tutti e non ti guardi il giardino del tuo vicino perché tanto ognuno c'è le sue bega anche se l'apparenza ti sembra diverso comincia a vivere un attimino più sereno comincia a essere proprio perché ognuno c'ha poi un suo quello si chiama un debito karmico che deve portare avanti e avere a che fare ma a caso ma a proposito di no a proposito di karma visto che l'hai lanciata ne approfitto perché è la diciamo la l'argomento centrale del tuo ultimo libro no sì perché ti sei concentrato sul karma cosa lo trovi un concetto chiave per raccontare l'esistenza immagino esatto il karma è la conseguenza del destino delle coincidenze arrivi mai per mettere i piedi per forza del karma e il karma anche qui è una parola stra strattonata e purtroppo anche qui c'è l'ignoranza terribile che è dettata ovviamente dalla dalla dal mondo mediatico ah io c'ho un karma pesantissimo devo andare assolutamente a fare un'ipnosi regressiva per vedere che cacchio combinato in un'altra vita perché una sfiga così in questo anno in questa vita a me non mi è mai successo sono delle ignoranze terribili di queste primo che l'ipnosi regressiva non è un gioco e quindi l'ipnosi regressiva è un lavoro di psicoanalisi che deve essere fatto da un medico o psichiatra o psicologo per persone che hanno dei gravi problemi patologie e chi sa ipnotizzare bene deve prendere la persona e andare a scandagliare questa vita e mi hanno comunicato fior di docenti che nel 95 96 per cento i problemi li trovano in questa vita non le vite precedenti quindi è qua che devi andare a giocare non è che fanno dei retriti di due giorni dove ti dicono tutte le tue vite precedenti lo so benissimo ma io non ci sono mai andato perché senza riscontri io non mi muovo se tu non mi dai riscontri mi puoi raccontare quello che vuoi quello che vuoi adesso ti racconto un riscontro che ho avuto però prima ti dico del karma il karma andiamo avanti anche sì però perdite il karma è a karma significazione in sanscrito antico ma io la chiamo come la sempre la chiamo la mia blavatsky legge della retribuzione legge della retribuzione punto quello che tu dai sti quello che tu dice il tuo stipendio non è preso un centesimo anzi devi dare peggio per te infatti io poi faccio anche un gioco tante volte con i miei ascoltatori i miei corsisti tu arrivi in questa vita ok perfetto siamo qua siamo sulla linea di partenza quanti punti ai 0 o più 10 o meno 2 che che debito hai quando arrivi e innanzitutto quindi quando arrivi meno due per esempio potrebbe essere che sei nato con un problema fisico una famiglia poverissima quello che altro che poi ti faccio uno schema e ti dico adesso comincia a vedere i tuoi 0 7 7 14 14 21 poi mettiamo la parola amore mettiamo la parola salute mettiamo la parola soldi mettiamo la parola lavoro mettiamo la parola famiglia ecco adesso qui dimmi se sei in credito o sei in debito oggi cosa hai 50 anni benissimo su tutte queste voci sei in credito o in debito cosa vuol dire essere credito in debito vuol dire che se sei in credito vuol dire che devi ricevere sono in credito datemi perché ho patito in amore lavoro salute datemi perché io ho patito se sei in debito hai avuto hai avuto così tanto che tu sei in debito mi devo sdebitare alla fine fate questa autoanalisi tra di voi e vedete su queste otto voci quante sono ci e quante sono di onestamente però fatelo questo è un giochino che uno già riesce un attimino a visualizzare ok quindi se ho capito bene se mi è andata bene la vita sono in credito e quindi devo dare se sei andata bene la vita sei in debito sono in debito ok quindi devo sdebitare ok se tu non ti sdebiti se tu non ti sdebiti vuol dire che ti sdebiterai la vita prossima perché sei stato troppo egoista ma o anche nella vita c'è da dall'età in che vivo in poi anche anche certo tu puoi fare anche dei gesti allora l'altruismo è la moneta d'oro di dio la valutazione finale della vita animica si basa su una sola parola altruismo non c'è altro l'altruismo non c'è altro tra l'altro il titolo prossimo libro di marco cesati cassino la formula di dio l'abbiamo trovato esatto altruismo non c'è altro no no la formula di dio il mio prossimo libro ah scusa quando è che esce scusa il 22 gennaio prossimo ok mi chiede se hai già il titolo se già la data in le grandi case editrici sono programmate così ancora con sperling sempre con sperli e sai che abbiamo la stessa casa editrice dopo ti diamo un nostro libro anche noi siamo usciti qualche volta con vera gioia con quello col libro che usiamo per tenere sulle luci in studio ma l'ho messa a posta è marketing perché si vede la scritta è un librone tra l'altro sì 200 qualcosa vendi più di 200 comunque dopo te lo faccio con vera gioia poi te ne do uno dei miei facciamo lo scambio facciamo lo scambio allora stavo dicendo questo che l'altruismo allora ci sono facciamo questa piccola finestrella esoterica spirituale esoterica l'anima quando va di là non c'è nessun tribunale né niente che gli va a dire a fare per come si auto giudica la sua vita appena passata quel famoso film vi dicendo però le due sono le diciamo le 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 notizie importanti che un uomo deve tenersi a mente tutta la vita la parte buona la parte cattiva la parte buona è altruismo cioè tu vai a rivedere nella tua vita quanto sei stato altruista cosa significa altruismo non è solamente dare 50 euro sul sagrato della chiesa l'altruismo è cara posta ti vado a lavare i piatti che ti vedo se stanca oggi poi magari prende ancora maggiore peggio un peso se tu sei juventino e c'è la juve in cempsion e vai a lavare i piatti quindi li vale dieci volte di più per dire no quindi l'altruismo poi c'è un detto che dice il perfetto valore di un essere umano letto perfetto sta nel compiere grandi gesti di altruismo e non dire mai nulla nessuno questo è il perfetto valore non come fa fedez che da in giro i soldi dalla lamborghini e si autofilma e cazzo fedez esattamente come quando leggi anche qui raccolgo ovviamente notizie samaritano invisibile dona un suo rene a uno sconosciuto non un suo parente non vuole che vengano rilasciate le sue generalità questo questo è uno che era in debito e assolutamente doveva fare qualcosa e quindi ha deciso di dare un rene a un perfetto sconosciuto sai che mentre io continuavo mentre parli a cercare di pensare ma sono in debito sono in credito io stesso mi dico sono in debito sono in credito e non è così facile capire se sei in debito in credito perché uno può avere infatti cioè uno può avere un'immagine della propria infanzia un'idealizzazione del proprio passato che se poi fa un percorso di analisi autoanalisi o analisi punto volendo magari psicosintesi via saggioli che non so se conosci come immagino che infatti l'ho detto apposta perché penso che abbiamo un background comune e scopre che quello che magari poteva sembrare una sciambala era un non sono d'accordo no io faccio molti coach one to one e quando chiedo ma i tuoi 7 14 alimentari medie così chiudi gli occhi in attimo riguarda tuli che va a scuola la famiglia che ricordi ai nostalgici belli o brutti non bruttissimi bruttissimi non li voglio neanche ricordare pure si bellissimi tu comunque hai perché sono le emozioni che lavorano la memoria cellulare che lavora dove tu magari non ha in quel momento il ricordo ma la memoria cellulare ti dà subito l'azione di quello che è successo e non può esserci spesso capita una repressione di determinate emozioni certo vogliamo neanche più ricordare è rimosso esatto abbiamo talmente rimosse che l'abbiamo cacciato in un luogo che infatti rispondendo questa domanda non riusciamo infatti il rimosso per me è collocato nel negativo se tu se non mi dice guardi ho rimosso non ricordo più niente quello che ho fatto fino a 12 anni vuol dire che negativo ma non ricordato niente cioè non ricordo ricordo solo le cose positive perché mi sono abituato a sopravvivere le cose positive hanno sovrastato le cose negative le cose negativi esistono per forza l'ho detto prima no non possono essere scisse quindi comunque alla fine tirando la somma i mesi 7 14 stati belle io ho avuto dei 14 21 meravigliosi fighissimi me li ricordo con una nostalgia pazzesca io faccio tratto persone che sono da spararsi certo tra violenze e cose vi dicendo una cosa inenarrabile per dire e il gioco è sempre quello il papà e la mamma infatti io dico sempre voi avete avuto dei genitori un padre una madre o un papà una mamma sono tre modalità di chiamarli completamente diversi ma che hanno segnato il vostro destino i genitori sono quelli che ti hanno generato e poi alla fine hanno fatto poco niente o è morto è scappato o sono lavorare tutto il giorno ti danno dalla nonna e a me mi dicono ma per me mia mamma è mia nonna non è mia mamma questi sono i genitori poi quelli più comuni sono il padre la madre ovvero sono quelli che non sono capaci di trasmettere amore sono quelli che sono fatti come si dice dalla vecchia maniera di un genitore di una volta sono quelli che non sono capaci di abbracciarti mettiti su di ti ti voglio bene sono quelli dove si mangia guai chi fiata quelli che si guarda altre giornale quelli che non che si parla sempre su di soldi quelle che ti dicono che vuoi fare che liceo vuoi fare guarda puoi scegliere un liceo scientifico classico di più non ti faccio fare cioè la libertà tua è finita lì quindi è lì ecco che soffre la creatura soffre poi c'è il papà e la mamma quindi papà e la mamma sono quelli propri di amore di abbraccio di considerazione di libertà di di condivisione di dicendo ecco papà e mamma è un 15 per cento delle persone che io sento 60 per cento è padre e madre ti volevo raccontare questo fatto della delle vite precedenti io una volta andai nel 2001 da una medium che avevano segnalato a roma era su lungotevere a mente quando mi segnalano persone che poi mi fido io corre vado a vedere vado a sentire ed era su una torretta dove in cima c'era questo fratino era a fine maggio faceva caldo finestra aperta c'era una sedia un'altra sedia lei aveva di fogli bianchi così è un certo punto mi dice o è apparso di fianco a te un uomo di nome cesare salutano io guardo lei dico ciao cesare però tra me e me stiamo pensando questa mi sta piacere fondelli perché se non hai riscontri cosa fai no mi sta comunicando di dirti che è molto contento che ora tu sai che lui è al tuo fianco perché voi eravate insieme su questa terra duemila anni fa in terra di gallilea no 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 non è giulio cesare eravate due consoli e eravate amici così tanto amici solamente che tu marco a un certo punto si è stato richiamato a roma certo non c'erano gli aerei allora quindi tu sei partito non hai mai più rivisto poi le incarnazioni sono state differenti adesso tutti sei incarnato lui no e ha chiesto autorizzazione di stare al tuo fianco in questo tuo viaggio terreno quindi è molto contento che lui sa che tu ci sei che riscontri ci sono zero adesso mi sta dicendo che se vuoi fargli delle domande sulla tua vita ove lui potrà rispondere ti risponderà e io te le scriverò qua e io dico tra me e me altra fregatura perché adesso le dico come sarà la mia salute lei farà così e poi scrive il cacchio che vuole cioè io ricercatore sono fatto così e lì mi spiazzò completamente io quei fogli ce li ho ancora adesso a le domande le deve pensare non le deve dire ovviamente io sento lui mi ha proprio quindi io ho preso apposta delle domande particolari la prima domanda particolare siccome mi ero appena separato era relativa alla mia ex moglie che stava malissimo che cacchio ne sapeva questa e quindi a questo punto ho iniziato dicendo ma federica cosa e lui disse federica se la riprese riprenderà e questa scrisse federica si riprenderà quindi ogni domanda che io facevo era esattamente quello che avevo pensato quando arrivò la domanda sulla salute mi disse una bellissima notizia che avrei vissuto a lungo non avrei avuto brutte malattie poi ne disse un'altra che purtroppo si è avverata che avrei avuto solamente problemi con le ossa e ho letto che ti sei fatto male non hai camminato per sì ma non solo quello ma io ho un'anamnesi ortopedica da far paura quindi lui ha visto tutti i miei incidenti traumi che mi sono fatto faremo il possibile per sostenerti ma non tornerai più quello di prima e in effetti è così e quindi io ho solamente problemi con le ossa l'amore di dio meglio problemi con le ossa che che altro di altro genere però devo ammettere ecco questo è il riscontro che uno cerca se no mi può andare a contare quello che vuoi è un po difficile che io ci creda e qualsiasi cosa io dico è sempre sostenuto da una prova sempre anche il fatto che di là c'è non c'è il tempo e qua c'è il tempo io le prove perché sennò come faccio a sostenerle e qui che prove sono ma è qualcosa magari poi possiamo vediamo vediamo qualcosa è portato hai portato dei documenti che siamo ho portato qualche foto dovremmo essere attrezzati qualche documentazione relativa innanzitutto per convincere le persone alla loro forza del pensiero che devono avere sempre ben reale dentro la loro testa allora chi ci segue chi ci sta ascoltando su spotify su apple delle descriviamo noi le immagini chi ci vede su youtube invece le vedrà insieme noi mentre per cartella la cartella settembre 2021 la cat la cartella non c'è c'è sono quattro file e il powerpoint al powerpoint mentre prepariamo visto che hai parlato di del fatto che ti piace scremare allora immagino che la tua vita da quando hai iniziato a scrivere questo libro ma probabilmente anche prima sulle coincidenze sia ho letto che ricevi centinaia di lettere continuamente qual è il metodo che usi per scremare i casi umani tradotto le persone i mitomani le persone che magari di subito e da cosa si capisce il modo in cui se le cantano se la suonano hanno proprio una visione della vita completamente fuori di testa onirica c'è quella che mi dice io sento voci sento cose oppure abbasso gli sguardi vedo sempre il sasso a cuoricino o cose di questo genere non mi trovo niente se non c'è un significato se non c'è una sincronicità di ogni fatto me lo devi spiegare ma devi elencare a me non interessa assolutamente quindi non hai elaborato questa sensibilità cioè ci deve essere un portato quest'anno sono 30 anni mi sono occupato di gestione alberghiere fino al 2006 2007 però che studio e 30 anni nel 2000 ho incontrato il mio maestro ho lasciato l'alberghiere finalmente nel 2007 2007 quindi insomma ormai chi è il tuo maestro è un uomo con cui sono stato di fianco per 12 anni che non è conosciuto dal punto di vista diciamo mediatico che si chiama giuseppe savo che è un siciliano che è andato dall'altra parte ma io parlo sempre personale perché sono sempre tutti qua quindi non dico mai si chiamava faceva ha lasciato il corpo si può dire ha lasciato il corpo sì si può dire ma è una usanza che si usa adesso io dico che è andato nell'altra stanza è andato nell'altra stanza è molto presente e lui era già andato nell'altra stanza per tre ore a cinque anni e in quella in quella vicenda ha vissuto informato ha avuto talmente tante informazioni che poi se le riportate in da questa parte della stanza col dono del non oblio quindi lui ha ricordato tutto quello che avevano detto e quindi lui ha fatto una vita su due binari uno era un operaio una fabbrica no sì come nizar da gadda ma raggi che era un tabaccaio esattamente ecco quindi tu l'hai conosciuto che faceva ancora operario no certo no era già in pensione a ok erano operaio e l'altra parte era un medio un uomo di un sapere di 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 cose pazzesche lui mi ha preso per mano e mi ha porto delle cose che voi umani e lì ovviamente io ho dovuto ammettere cioè non potevo più non ammettere come vi siete incontrati dove l'hai incontrato il maestro appare quando quando meno traspino scusate non lo so è un detto che dice il maestro appare quando l'allievo è pronto certo e ma appunto ok quando è che ti sei trovato pronto ero pronto nel 2000 avevo tre alberghi in grecia greco dove sono stati quest'estate a paros paros no è una coincidenza dove di preciso a paros magari eravate anche in albergo che gestivo io ero di fronte a naussa eh no noi eravamo in quella penisola è un paesino bianco meraviglioso di fronte a naussa vuol dire dall'altra parte del fiordino c'è questo porto paros hotel che è di 200 camere e io lo gestivo lo gestivo un mese fa eravamo lì ero a paros poi la creta e poi ero nel peleponneso quindi parlando greco e preparare greco per leggere il documento in greco bisogna un interprete e c'era una signora che aveva lavorato a vacanze che poi era fallita e io la pagavo per accompagnarmi ad atene banche avvocati contratti queste cose traduttrice un giorno era tardi mi dice tardi bisogna aspettare le cinque che riaprono gli uffici andiamo a mangiare qui ci sono i miei genitori gli dico di buttaci giù un piatto di pasta io entro in questa casa e sul divano c'era un ognometto che aveva già 80 e 8 anni che mi fa vieni qua che è un po che ti aspetto ed era il mio maestro quindi era il padre della mia interprete e parlo di lui nel mio primo romanzo cioè non sei andato nell'himalaya mai digiunato quindi ti ha riconosciuto nel senso che ha indicato te non è che io poi non sono più andato nessun appuntamento sono rimasto di sei ore come se avessi fatto cinque minuti e poi niente poi è stato con me è stato tantissimo quindi è un signor anziano in una sala d'aspetto è un ognometto un ognometto che un ognometto bella questa storia e forse lo vedrà in una foto perché a un certo punto lui insegnò il potere del pensiero e quindi mi fece fare una prova che voi magari vi metterete a ridere dovrebbe esserci allora mettilo in presenza in diapositiva si fu tutto schermo tutto schermo e vediamo se vede se si vede la diamo se giovanni no io powerpoint non lo uso maic e guarda tra l'altro questo non è neanche powerpoint ma il mio powerpoint ma tu non hai powerpoint vai su visualizzaggio adesso visualizza in alto visualizzato sotto 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 vai sotto settembre settembre 2021 dice visualizza e vai su avvia presentazione il primo in alto boom fatto voilà si però non vedo la diapositiva dopo quindi andiamo così fa niente sicuro sì sì vai avanti vai avanti questa ecco per esempio questa è importante solo che se non si sente l'audio poi lo metti tu ok se vai nella prossima e questo è quando hai paura usa la spada lo dico per chi ci ascolta esatto qui dentro c'è un filmato no no se tu schiacci lì sopra non parte un filmato no non parte nulla ecco allora siamo belli che freghe vediamo se è sì perché perché dovremmo avere il powerpoint sul computer ma non ce l'abbiamo no certo tra l'altro voi siete apple quindi una robaccia così come powerpoint non potete certo però puoi raccontarlo io comunque sia posso metterlo poi certo perché poi tra l'altro le slide dopo riprendono le frasi allora piccola la lasciamo un attimo lo schermo torniamo qua nel mini nella fine degli anni 60 66 67 c'è un americano che si chiama dan millman che un ragazzo candidato era proprio nella squadra olimpica preolimpica per partecipare a messico 68 gli anelli è un bel ragazzo trombatore di primissimo grado e uno poi un po un po grada sotto un po così perché è bello alla ginnasta tutto quanto campione tutto quanto e lui però si era appassionato di un di un benzinare notturno dove andava a far benzina tornando a casa che era uno sciamano qui nel film nick nolte che è fantastico e quindi comincia a nascere un'amicizia lui lo chiama socrate gli dà degli insegnamenti che non aveva mai sentito poi un giorno il fenomeno passa con la sua moto e rosso lo prendono in pieno gli spaccano la gamba la parte superiore della gamba in non so quanti punti gli mettono una barra di ferro il comitato olimpico gli revoca completamente gli lascia passare per andare alle olimpiadi e la sua vita finita ok tutta questa storia vera e dentro dentro il film e dentro il libro perché poi viene fuori un libro tutto quanto lui gira ancora oggi il mondo a 75 anni si mette sulla sulla sedia si mette ancora a bandiera che il film come si chiama la forza del campione sa che mi sa che l'abbiamo proiettato un pezzo ma tu adesso dici il discorso finale il video era il discorso finale non è il discorso finale e l'abbiamo proiettato in un nostro corso non per merito mio che non l'ho visto quel film per merito per il mio socio enrico che l'aveva selezionato questo film e lo trovate su youtube gratuitamente in due tempi lo vedete come quando volete io dico sempre che da vedere con un bloc note e penna perché è solo da imparare figata lo faccio ok allora a un certo punto la sua vita finita no e c'è il momento clou che poi tu prendi questo momento clou e lo porti sulla gente comune e gli dici lui dice adesso imparato farò quello che vuoi voglio dedicarmi agli altri e notte si siede lo guarda e dice io voglio che tu torni a essere un ginnasta questo lo guarda gli dice ma c'è ma sito c'è una barra di metallo qua dentro e comincia uno scambio tra loro due che lo scambio che dovrebbe essere preso per tutti perché noi tutti siamo campioni del mondo a tirarci fuori gli alibi per non fare le cose capito e lui la storia vera è questa che lui l'ha convinta a tornare ad allenarsi non solo tornato ad allenarsi non solo è diventato più forte di prima ma addirittura è riuscito andare a fare olimpiadi quindi a far revocare quella quella condanna che aveva ricevuto dal comitato olimpico tutto questo diventa poi anche un libro che si chiama il guerriero di pace the peace warrior è un film dopo tanti anni che si chiama la forza del campione che trovi oggi gratuitamente su youtube le frasi andiamo a vedere adesso su sullo pseudo powerpoint che avete e tiriamo fuori eccolo qua fermati qua per esempio tu sei un guerriero tutti noi siamo guerrieri quindi ecco che la prima frase che lui la dice sussurrando nick nolte è un guerriero non rinuncia mai a quello che ama guerriero non vuol dire invulnerabilità significa assoluta vulnerabilità e gli trova l'amore in quello che fa e quindi io ti chiedo a te nella tua vita tu sei vulnerabile ma trovi amore in quello che fai o lo fai solo per guadagnare al tuo stipendio per dire lo fai solo perché per far contento qualcun altro o rinunce la tua vita perché faccio piacere a questo perché non sono capace ma è la prossima lui dice a un certo punto madonna che ho messo tanti quegli errori lui dice in quel momento ma io ho avuto un incidente non lo vedi e lui si alza gli dice l'incidente è il tuo allenamento quindi quando tu hai un incidente è il tuo allenamento non puoi nasconditi dietro la scusante è avuto un incidente e quindi cosa fanno gli altri è sì poverino è avuto un incidente che sfigato e la cosa finisce lì tu puoi scegliere di essere qualsiasi cosa anche una vittima vuoi scegli farla vittima fai la vittima la vita è fatta di scelte e quindi lui dice porta la spada quassù e taglia la mente a pezzi trafiggi col pensiero ogni rimpianto e quando comincio quando si fa lui dice non esiste un inizio una fine esiste solamente il fare prendi e fai prendi fai piegamenti prendi e dai dai le dimissioni prendi e poi muoviti perché la gente è piena di paure questo è il problema forse ce n'è un'altra ancora no all'improvviso la vita cambia questo è un esempio eclatante della potenza del pensiero quindi il pensiero cosa fa il pensiero ti porta su uno schema e se tu sei convinto di quello quale che sia positivo o negativo da lì non ci esci più è difficile cambiare perché perché sei stato inculcato e quindi tu devi convincerti da solo l'universo non guarda se una cosa è positiva o negativa perché magari quello che è positivo per te è negativo per me e viceversa l'universo ti consegna esattamente quello che tu stesso hai depositato all'universo devi sapere che noi abbiamo dei pensieri ogni pensiero una vibrazione questa scienza è fisica è una vibrazione che c'è al nostro cervello dove va questa vibrazione questa vibrazione raggiunge uno stato dimensionale lo chiamo un serbatoio un enorme serbatoio un oceano composto da tutti i pensieri dell'umanità di tutti gli esseri viventi quindi tu hai la vibrazione di avvilimento in quel momento che fa così viene fuori dalla testa e va in questo serbatoio trasparente che c'è e cosa fa questa vibrazione va a captare tutte le vibrazioni simili le prende e te le riporta indietro e cos'è la trazione quindi se ho un pensiero di sfiga me torna una indietro decuplicata e quindi sono sempre più convinto della sfiga e così di qualsiasi altro concetto hai parlato di decuplicata mi è venuto in mente una cosa che ho letto nelle tue cose che non c'è proporzionalità nel karma così torniamo e recitiamo il tuo libro la legge del karma non c'è proporzionalità nel senso che se io faccio nove cattiverie ma ne faccio una buona vale di più quella buona di quelle nove cattive no dipende sempre dall'intensità ma soprattutto una cosa dipende tantissimo dall'intenzionalità la prima legge è l'intenzione ma la dire che tu il karma lo puoi fare con le parole lo puoi generare con le parole coi fatti con i pensieri ma anche con le intenzioni io intenzione di menarlo basta quello sì poi non lo meno poi non lo meno però già un carmettino negativo no no l'hai generato e come l'hai generato e come le intenzioni sono peggiori anche di certi in certe situazioni perché le intenzioni diventano anche le peggiori no perché poi non le metti in atto ma sono quelle e poi sono altamente private intime non le hai espletate non le hai fatte vedere col fatto con la parola sono tue intime e poi ne paghi le conseguenze però qual è la fregatura che tu non ricordi tu non ricordi e quindi a questo punto ti arriva addosso il risultato della legge karmica il karma decide lui come quando potrebbe arrivarti dopo 30 anni quella tua intenzione malefica e tu dici ma che vita terribile questa e quell'altra rifaccio sempre l'esempio della dell'uomo con la tasca ci sono due uomini su una tasca su davanti a una marciapiede perché stanno spettando il rosso il verde ed è uno dei due gli scende c'è un buco una tasca gli scende una banconota da 200 euro quello che sta di fianco la vede lui non se ne accorge che gli scese la banconota e tac gira col piede sopra la banconota aspetta che quello se ne vada quello se ne va non se ne accorto zichina pende 200 euro e quello pagherà il peso carmico terribile andiamo dall'altra parte della strada ci sono ancora due uomini ancora uno col buco della tasca che perde 200 euro ed è lo stesso che ha perso i 200 euro che abbassa lo sguardo e vede a terra la banconota e pensa che sia dell'altro e quindi prontamente cosa fa tac si autocopre la sua banconota aspetta che l'altro che non c'entra un ciuffolo se ne vada ok e tutto contento gira il piede si egli pensa di aver fregato la banconota e se la mette in tasca poi ovviamente dopo qualche minuto si accorgerà della cretinata che ha fatto perché si è accorto del buco e che 200 erano suoi che cretino ma lui pagherà pesante pesantissima questo è il senso ti voglio dire se tu rubi una mela durante una bravata di ragazzi di scuola fuori dalla scuola e non hai fame quella mela lì che tu hai rubato che frutti vendono non t'ha non t'ha beccato magari la paghi vent'anni dopo che ti svaliggiano la casa mentre sa cortina un pezzo per dire ma tu non puoi collegare due fatti sai che allora mentre parli sono tutti concetti che si sposano con le mie convinzioni una brutta parola quelle mie senza quelle mie con la mia essenza però siccome il ruolo di co conduttore di questo programma comporta anche quello di parlare con le voci di degli altri e quindi mi dico questa cosa del karma torna concettualmente a livello di intuizione ma non è misurabile attraverso nessun tipo di strumento scientifico mi viene in mente così connetta che il discorso che abbiamo fatto all'inizio sulle coincidenze che invece cazzo jung ha approvato in tutti i modi facendo degli esperimenti leggevo a misurare gli eventi a caso a casuali c'è tipo aveva fatto delle ricerche con una serie di di persone che si erano dette disponibili avevano letto lì cingh avevano letto varie cose poi si vedeva se le premonizioni o se i riscontri poi erano effettivamente accaduti poi è morto e non è riuscito a portare avanti questo progetto che mi sembra incredibile al netto del fatto che si possa o meno misurare questa cosa sia del karma che delle coincidenze non è comunque auspicabile che ci siano degli studi di questo tipo perché non c'è questa questo diverbio costante tra la scienza e la fede tra la scienza e la spiritualità lo trovo un peccato perché mi piace molto quando queste due parti dell'umanità dialogano tanto quanto il dalai lama quando sono andato a vederlo tanti anni fa quando abitava a bruxelles lui dice no beh nel mio monastero girano un sacco di scienziati li faccio misurare il mio cervello il cervello di quelli che meditano io voi voi non dovete essere legioni dovete dovete solo essere scientifici e perché è solo questione di tempo e poi tutto verrà approvato scientificamente ecco io amo un mondo di questo tipo dove non c'è per forza guarda che quel mondo esiste 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 in atto solo che non lo puoi trovare su rete 4 taglia 7 ma al bazar atomico si al bazar atomico sì ci sono un sacco di scienziati meravigliosi che studiano questo e sono a livelli mondiali uno per esempio viene in mente robert lanza che ha ideato la parola biocentrismo perché ha scoperto una serie di fattori scientifici che sono a questo punto non più discutibili che al momento della nostra interruzione di vita in questa stanza emaniamo delle molecole che poi la nostra anima dovremmo chiamare che vanno alla ricerca di un altro campo da occupare e lui l'ha provato l'ha testato l'ha quantificato e a questo punto è entrato in un altro discorso molto più vasto oppure potrei dirti jean emil charon che è un francese fisico deceduto lasciato la stanza nel 1998 che è un fisico biologo che ha scoperto al microscopio che la cellula studiando la cellula al momento che lui la cellula va in apoptosi non tutta la cellula muore non tutta diventa nera come la pece ma da quella cellula stessa che sta morendo diventa nera come la pece una parte diventa incandescente luminosissima ma non si stacca si staccano lascia e se ne va di cosa siamo fatti noi di miliardi di cellule e quindi noi abbiamo una parte che appunto si stacca e se ne va altrove infatti la bella notizia di tutto questo è che nel momento in cui noi passiamo nell'altra dimensione quale che sia al momento noi non perderemo mai la coscienza del sé che per me è la cosa più importante che esista non è tanto in questo momento il corpo non il corpo nel momento del passaggio quale che sia traumatico o meno traumatico tu non perdi mai se non forse per un paio di secondi il momento dell'addormentamento la coscienza del sé quindi non tu non sei mai qualcos'altro qualcun altro sei sempre te stesso che ti sposti ti vedi ti meravigli incontri fai chiami brighi tu hai visto il film interstellar a voi ecco quando tu vai nell'altra parte della liberia e cominci a bussare a bussare fa scendere i libri e la bambina che guarda è esattamente la stessa cosa che succede quando veniamo dall'altra parte abbiamo proprio quelle disfunzioni temporali anche quindi tutto energia che vibra e che si attrae o che si allontana secondo di quello che tu sei poi potrebbe tanti altri argomenti di quello che noi siamo dall'altra parte però rimanendo da questa ti vorrei fare un esempio della coincidenza karmica che invece secondo me storica è molto interessante che è legata a perché deve andare a cercare quanto cerchi trovi sempre è legata all'arresto dell'ultimo rivoluzionario americano che è geronimo praticamente geronimo alla fine della sua delle sue lunghe battaglie decide decise di lasciare il campo di battaglia perché perché aveva negoziato la resa con un certo colonnello lowton che era incaricato del generale milton di andare a negoziare aveva ricevuto tutta una serie di condizioni di cui doveva stare ma geronimo ne aveva chiesto delle altre e lui promise che aveva avuto la ok anche su quelle altre mentre non era vero perché lui una volta arrestato senza neanche più un proiettile l'ultimo capo ribella che aveva messo in ginocchio mezzo esercito gli stati uniti diventò l'eroe degli stati uniti e venne promosso a generale lowton da colonnello lowton tu potrai immaginare l'incazzatura di geronimo che una volta che aveva chiesto quella 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 riserva in quel tipo di stato l'hanno mandato in florida in mezzo alle mosche le zanzare lontano migliaia di chilometri dal suo popolo gli aveva chiesto del bestiama gli andato dell'altro bestiama tutto una serie promesse non mantenute tu puoi immaginare questo che dialoghi ha fatto col karma bene cosa succede che nel 1899 qui siamo un peperà di storia il generale lowton viene mandato a guidare l'esercito gli stati uniti nella guerra contro le filippine e una sera rientrando al suo forte passando per il la giungla cade in un'imboscata pazzesca dove c'è uno scontro cruentissimo tra i suoi soldati soldati filippini a certo punto il generale lowton all'età di 56 anni si trova davanti un suo collega generale filippino che tira più veloce fuori la pistola una colt e con un solo colpo lo spara al cuore e muore e tu dirai m beh sai come si chiamava quel generale filippino geronimo fa adesso ti posso dire si chiamava di serio geronimo e ti posso dire non lo so se geronimo l'ha venuto saperlo ha goduto a questo però il karma comunque arriva comunque agisce e ti dà indietro quello che tra tutte le cose che hai detto la cosa che mi sembra più difficile quella di riuscire a cambiare le intenzioni perché mi sembra di capire che sia tipo un campionato cioè c'è la serie a la serie c la serie b la serie a la champions league io non so in che serie mi possa collocare ma sicuramente non solo nella champions league cioè nel senso che comunque riesco ad agire in maniera consapevole ea capire quando un'azione eticamente può far del mare a qualcuno meno però qualche secondo di intenzione ce l'ho sempre di mandare a fanculo qualcuno di dire vabbè ma mandare a fanculo un karma leggero è un karma leggero che può ricavare tranquillamente offrendo un caffè a qualcun altro adesso non esageriamo non è che devi far di tutto un peso terribile attenzione su cui siamo nel quinto vivere nella tua personalità le intenzioni quelle pesanti sono quelle che devono essere poi considerate uno ce n'ha spesso nel cervello sezione quindi dipende poi come sai che che grado secco sei voluto ma non ti devi preoccupare quello però ti vorrei anche ricordare che il karma ha due poi aspetti che devono essere poi comunque considerati uno il karma ti deve guidare poi individuare il tuo dharma e infine il karma comunque farà sì che tu debba passare almeno una volta nella tua vita quella che si chiama la notte oscura dell'anima io ne ho passate tante di quella no scherzo e no tra l'altro vai finisci se perché qua devo dire carma dharma allora noi abbiamo con enrico che saluta il mio socio di money surfers abbiamo immaginato siccome siamo formatori finanziari e di business quindi abbiamo anche aiutato e tante persone a migliorare la qualità del proprio lavoro e l'efficacia del proprio lavoro cercando di sincronizzare i valori l'etica delle persone con la propria professione con la propria azienda e come si fa purificare il nostro karma attraverso un dharma quindi noi dharma l'abbiamo tradotto in maniera molto libera per come vocazione professionale cioè quindi come la missione che ho nella mia vita no e cosa ne pensi di questo c'è può posso attraverso semplicemente il mio lavoro c'è la mia professione intercettando quella che è la mia vera vocazione professionale quindi facendo il detox di tutte le convenzioni del nonno della mamma dello zia che mi ha fatto fare la scuola dello sted di instagram che mi fa vedere quali sono i lavori più alla moda se io intercetto quel dharma lì quella con la stellina lì e finalmente capisco qual è e faccio di tutto per fare in modo che quella stellina lì sia la mia la mia vita ma mia totalità posso purificare il karma attraverso questa questa azione purificare il karma un'altra strada il dharma la risposta è è la tua ragione per essere qui quel lavoro ok è la tua motivazione la motivazione con la m maiuscola quindi è tradotto è la tua passione perché se tu non fai una cosa con la passione non può essere il tuo dharma passione vuol dire che non ti stanca mai passione vuol dire che tu puoi ripetere le stesse identiche cose ogni giorno perché non ti stanca mai tu hai la passione consiglio a tutti di andare a vedere sempre su youtube un filmato di quattro minuti di un grandissimo filosofo chiamato alan watts di doppia alla guadze si ci sono anche s si famoso americano anni 60 inglese a inglese si è andato nell'altra stanza solo i 57 anni per eccesso di conferenze mondiali quindi proprio morto di stress crepa cuore ma è l'unico che ha portato occidente oriente insieme famosissimo suo libro la via dello zen ma di grande illuminazione è il libro il significato della felicità e lui in questo filmato di quattro minuti che si intitola cosa desideri davvero punto interrogativo cosa desideri davvero punto interrogativo dura quattro minuti in inglese con sottotitolo in italiano ti fa capire il senso della vita rapportato alla motivazione di cosa ti piace fare veramente tu devi fare quello che ti motiva e allora potrebbe diventare il tuo dharma il dharma comunque ha una guida che hillman ha chiamato daimon quindi bisogna saper trovare il tuo daimon che ti porta come un caronte verso il tuo dharma e allora il daimon come lo individuo mi spiace per te ma lo puoi trovare solamente dentro di te questo daimon cioè ti è stato inserito come un chip all'arrivo della tua vita qua e lo devi andare a scovare è evidente che se tu vivi in un certo modo una certa materialità sarà molto difficile che tu lo possa trovare ed evidente purtroppo te lo ricordo un'altra volta che per poterlo scovare dovrei fare qualche esperienza dolorosa se no è un po difficile che tu ne venga fuori l'esperienza dolorosa è necessaria sia personale che verso gli altri questi sono i meccanismi questo i motivatori normali non lo dicono mai cioè motivatori normali dicono ma certo se tu lavori con le tue passioni se tu diventi un influencer ai tanti followers avere una vita felice no persino se ai 100 mila youtuber che ti seguono comunque la notte oscura dell'anima prima o poi arriva prima poi arriva deve arrivare per poter ci essere un albano può durare una notte come degli anni per esempio madre teresa di calcutta ebbe la sua famosissima notte oscura dell'anima perché perché all'ennesimo bambino che gli morriva di fame tra le braccia essendo lei una suora cattolico cristiana alzò gli occhi al cielo e disse ma quale dio permette una cosa del genere e cadde perse la fede la sua notte oscura dell'anima fu che perse la fede stette via un anno e mezzo si riprese ma non tornò mai la stessa perché era entrata in uno stato confusionario perché era stata indottrinata su un dio benevole che pensa a noi che dio ci protegge poi alla fine c'erano questi disastri quindi noi dobbiamo entrare in un concetto diverso di quello che è dio che non è più questo dio antropomorfo comunque giudicante ma noi facciamo parte tutti del dio noi tutti siamo parte di questa fonte arriviamo e poi torniamo punto quindi più panteistico diciamo scusa se torno sul concetto karma d'arma professione prego prego deformazione professionale mi connetto ai due disegni che ci sono lì sul suo foglio allora d'arma intercetto questo chip mazza che figata sono riuscito dive hai detto che grazie a questo raggiungi lo scopo della tua vita vedi lo scopo la tua vita la tua motivazione e non ti stanchi mai di fare quella cosa lì quindi tipicamente fare una cosa significa produrre qualcosa creare qualcosa cioè dare dei contenuti creare dei prodotti come te scrivete dei libri altruismo altruismo più 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 produco più creo altruismo più vado in pari con il mio karma certo c'è la vedi si è un po il concetto di magnanimità però faccio senza sono conto esatto esatto senza neanche sperare che dall'altra parte qualcuno poi mi dica o hai visto che ho dato la centomila c'è tu lo fai in gratis piacere di farlo esatto il concetto di magnanimità che mi è sempre è piaciuto per descrivere nella maniera corretta secondo me il concetto di altruismo non non è tanto sbilanciarmi verso un'idea di far del bene agli altri è proprio colmare così tanto se stessi in maniera tua sana da traboccare e a quel punto nutrire anche gli altri no esatto con la tua abbondanza esatto poi qui potrei farti anche tutto un concetto che però prenderebbe troppo tempo di un valore del denaro il significato del denaro cioè il denaro preso come energia e non come denaro qui c'è tutta una cultura è una modalità di approccio che è molto affascinante che arriva da antiche ancestrali tribù che confermono quello che oggi cioè che il denaro è semplicemente un'energia con cui tu devi interferire dialogare se tu ti fai fagocitare dalla dalla paura di perdere il denaro o dall'importanza del valore di una panconota vi dicendo non riusci più a gestire queste emozioni invece il denaro deve essere presa come un'energia circolare per esempio te ne dico una sola perché sennò devo fare solamente una conferenza su questo ma una delle cose più belle nel quotidiano è crea un flusso energetico positivo e negativo col denaro cosa vuol dire che ogni volta che vai dal supermercato apri il portafoglio e paga con la sinistra sempre mentre tu la maggior parte pagano con la destra prendi il resto con la destra quindi crei un cerchio di entrata e di uscita continuo quindi dai un flusso mentale un esercizio quasi psicomagico citando gli odoloschi bravissimo mi piace allora questo punto cosa succede tra gli odoloschi ne ha detto anche un altro molto bello di esercizio su questo cosa succede che magari devi pagare la stessa cosa col banco ma che poi fanno sempre bene che c'è il banco ma invece dei soldi dico bene dai il banco ma stavo per chiedertelo lo ammetto con la carta e con chi paga con l'apple watch con la carta però dai la carta con la sinistra prendi lo scontrino con la destra è sempre il giro non è quello che c'è dico scusa se te lo dico ma è una domanda da barotti ma lo sapevo ma l'ho fatto apposta ha già recitato la parte poi per esempio se devi pagare cash e devi pagare una spesa non so di 27 euro e tu c'hai dentro 20 10 50 magari capita spesso che uno da un 50 perché così c'ha 20 euro in più per la benzina no devi sempre pagare dalle banconote più piccole mai quelle più grandi perché anche qui energeticamente devi sempre tenere l'abbondanza dentro il portafoglio non le più piccole capito perché tutto simbolico quando tu cominci a fare questo in automatico vedi in tutta una serie di meccanismi che cominciano a muoversi poi per esempio c'è il vecchio rimedio della nonna che adesso chi mi ascolterà si metterà a ridere ma io sono anni che lo dico e funziona perfettamente che quello di mettere una banca una monetina da 5 centesimi in ogni angolo della vostra casa mettendo la proprio dentro nell'intercappetine proprio nell'angolino che la incastrate lì meglio se meglio se ancora nascosta da un mobile da qualcosa che non la vedete la popola incastrate lì dentro e nel momento in cui la mettete lì dentro la guardate chiudete le mani dite adesso monetina cresci e moltiplicati grazie basta con sincerità e ralasci lì e la metti lì energeticamente tu dai un'ampiezza una potenza perché è tutta energia se io metto qui scritto fai schifo quest'acqua diventa marrone cioè è tutta energia la parola le cose come mai però la ritualità che quella che hai descritto per adesso è un rituale comprensibilissimo c'è un dare no cioè tu stai in qualche modo espropriandoti di un cinquecentesimo che lo tieni lì quindi anzi hai pure detto lo nascondetelo quasi come a dire in modo tale che poi non riusciate più a tirarlo fuori quindi è un come fanno gli indiani no la notrano che quando aprono qualcosa di nuovo oggettano sempre un pezzo al per terra come gesto di abbondanza di anche di al turismo e quindi il gesto che hai fatto via audio non si vede mai unito le giunto le mani no e dicendo grazie quindi gratitudine quindi al turismo gratitudine è un gesto è un rituale però non ti mancheranno mai soldi per pagare bollette non è che diventi miardario però è un rituale ci fa ridere perché ci deve fare perché siamo diventati così secondo te idiosincratici rispetto al rituale ci sono più rituali perché a parte sanremo in italia perché il rituale è legato al mondo ecclesiastico il mondo ecclesiastico ha perso la sua credibilità e quindi oggi c'è un fuggi generale tutti che vanno a inserirsi dove meglio credono quindi io quando dico queste cose o mio pubblico mi credono però tante volte c'è tanta gente sorride tira dritto e ognuno è fatto come fatto quindi non possiamo non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire quindi non è io però il mio compito è questo comunicare io comunico quei libri comunico con le conferenze comunico coi coach comunico coi seminari poi voi prendete quello che volete questa è la mia verità ma lo fai benissimo lo fai veramente bene secondo me sei il numero uno nello spiegare le cose in maniera così la ringrazio spontanea naturale e mi interessa visto che dici il mio compito è comunicare comunica comunicare comunicare mi interessa tantissimo sapere qual è la tua routine quotidiana adesso che sei il comunicatore da 30 anni cosa fai quando ti svegli da quando ti svegli a quando vai a letto come la tua giornata tipo è cambiata da cinque anni a questa parte da quando un figlio di quasi cinque anni è uno di due quindi tu hai una compagna che approfitta del fatto che sei ricercatore scrittore e quindi non vai a lavorare torna la sera sei sempre lì e quindi approfitti quindi a questo punto la tua vita diventa un po un momento meraviglioso quando vanno all'asilo torno alle quattro e poi diventa tutto un po poi se ci puoi metti anche l'aggravante sopra che la compagna non sa cucinare e quindi e soprattutto non sa fare la spesa mi tocca andare a fare la spesa e cucinare adesso ultimamente mi sono organizzato meglio e quindi io ho detto tu fai finta che io esco alle otto di se di mattina e torno alle otto di sera tu organizzi come vuoi ma io sono sì nella stanza di sopra il mio studio ma è come se non ci fossi e quindi le cose sono un po meglio organizzate perché perché devo consegnare un libro entro dieci giorni e scrivere un libro non è una passeggiata con tutto rispetto di fabio volo o quelli che poi devo preparare tutti i miei corsi e le mie cose che non è solamente l'idea o il contenuto ma poi devi anche veicolarlo e io non ho un imprenditore che mi veicola quindi devo far tutto da solo o un imprenditore che ha generato tre quattro eventi nell'anno che vanno molto bene nulla appena finito due giorni fa accanto molto bene perché avevo quasi 300 iscritti quindi per me è un ottimo successo evento online online era uno studio televisivo di di treviso è andata benissimo i prossimi invece che farai i prossimi invece sono tutti organizzati di me ti faccio un esempio ho trovato una bazzia sul lago di garda meravigliosa stupenda con dei frati simpaticissimi e faccio una due giorni sul destino le dipendenze come liberarsi dai dipendenze del fumo del mangiare troppo della ludopatia del denaro di questo del sesso tutto quanto e io parlo del destino due giorni di immersione in questo posto stupendo che non si chiama niente abbazia di maguzzano bello perditi ci sono 50 canale che è questo 6 7 novembre 50 camere e lì ci si fa e scriversi dovete scrivermi a scuola del destino gmail.com scuola del destino gmail.com ancora posto è tutto esaurito ma c'è ancora organizzando adesso è tutto proprio di tiro ci dedico ci metto l'energia e organizzo questa cosa poi o se no faccio delle cose online come le conoscere sono curioso come se li hai conosciuti questi frati io conosco mezzo mondo quindi tu devi parlare parlare dialogare dire e da dalle tre di oggi che mi hai detto che nella chiesa ha fatto casino per duemila anni e ma quali adesso perché ci siamo dissociati della chiesa e poi vai dai frati quando arrivano i frati eretici io godo capito per me il massimo perché le questi sono veramente fighi e poi un posto pazzesco tu metti di maguzzano abbazia ti guardi le foto dici cacchio fighissimo adesso giovanni le mette quella la docente che fa con me sulle dipendenze divertentissimo stiamo due giorni li mangiamo costa niente il corso trodico subito costa la pensione completa nella camera singola costa 50 euro a certo pensone completa e il corso costa 200 euro di due 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 giorni con due professionisti e perché anche lì non devi esagerare perché quelli che chiedono mille euro carmicamente tu vai abusare sul bisogno della persona quindi ottiva scaricare qualcosa se no tutti arraffi arraffi qualcosa succede è sempre un equilibrio che devi cercare capisci guarda mi interessa molto la questione delle dipendenze di cui parlato pazzesco come mai hai voluto associare alle tuoi studi perché io ho tantissimi casi di persone che non riescono a smettere di fumare che sono disperati io so che mi sto ammalando non riesco a finirla persone che non staccarsi dalla playstation persone che non staccarsi dal dal porno dal sesso il destino può aiutarci perché va va inficiare sulla tua vita energeticamente non se sei sei basso abbassi le frequenze abbassando le frequenze tu non puoi agire non puoi cogliere coincidenze non puoi cogliere i tuoi messaggi non puoi fare le cose bene sei sempre come se tossico ti intossici e quindi in questa due giorni ti sentiamo tutti gli strumenti per uscirne prima di arrivare lì bisogna essere coscienti che sia dipendenti da qualcosa ovviamente non è sufficiente più che coscienti riconoscere in effetti sì mi faccio 20 segretti al giorno vorrei smettere in effetti si passa un ora e mezzo tutti i giorni la playstation magari dovrei fare altro quindi c'è una sorta di dipendenza comunque dipendenza è quasi una ricerca sempre continua di equilibri 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 allora perché devi trovarla con quello trovarla con qualcos'altro comunque questa è la mia giornata io me la organizzo in questo modo e poi ovviamente dove c'è dove c'è spazio devo fare ricerca quindi devo fare poi cose delle mail che ricevo devo rispondere io rispondo sempre a tutti se ci sono email con delle coincidenze particolari ecco per esempio domani sera questa è una cosa che mi farà tutti impazzire domani sera ho una chiavetta con le foto se vuoi eventualmente vi faccio delle foto domani sera io ho organizzato una cena a un ristorante che sta ad al bairate attaccato a biate grasso che si chiama al mago ok questa storia dal mago che nel mio libro presenze positive che ancora tuttora ha venduto in maniera interessante è una storia pazzesca che è diventato uno dei punti di riferimento un giorno mi mando una mail una signora che mi dice sono antonietta valsecchi sono la proprietaria di un ristorante che si chiama al mago e vorrei parlare di un mago di una bara mi può contattare io ricevo una mail del genere dopo un secondo l'ho chiamata ma l'ho appena scritto dico sì ma una che mi scrive di un mago di una bara con tutte le mail noiosissime che ricevo e questa mi racconta la storia di questo ristorante che si chiamava prima locana dell'angelo è una vecchia posteria dei cavalli che esiste da 6 700 anni sul naviglio andando verso fuori ma anche andando verso milano quindi le carrozze si fermavano facevano un rifornimento tutto quanto e poi ripartivano da circa 120 anni la gestisce la famiglia proprietaria la famiglia di antonietta quindi papà che si chiamava mario la nonno che si chiamava francesco e poi bisnonno il papà di questa antonietta che ha la mia età era un classico istrione e gli attori del derby quindi stiamo parlando di fin anni 60 primi anni 70 gli annacci cocchiarenato abbattantuono tutti i giovani ragazzi finiti fare loro performance dicevano teoteocoli andiamo a mangiare dal mago perché era sempre aperto fino tardi si mangia una carne divina con molto consigliato per i vegani si mangia la carne veramente pazzesca con la carne con la verdura e si fa tardi e c'era questo affabulatore il classico patrò di casa ostio un po panzone tutto quanto che tutti chiamavano il mago perfetto a certo punto nel gennaio 73 lei mi racconta questa storia gennaio 73 il mio padre io avevo 12 anni mi dice che ha deciso di comprarsi una bara perché la bara che noi avremmo comprato quando non ci sarebbe più stato sarebbe stata sicuramente una barra risparmio voglio una barra per me bella originale unica come sono io solo che siccome era molto indaffarato con la gestione ristorante ma da un suo amico carissimo che era in pensione subito giù per i laboratori di mezza milano siamo d'inverno negli anni settanta a cercare questa barra soprattutto le boiserie che lavoravano per le chiese queste cose qua era un giorno dentro con questi laboratori stava parlando col titolare con un signore romano di cui nessuno mai si ricorderà il nome che dice guardi che io ho sentito quello che ha detto se vuole la barra c'ero io va bene però dove per chi è e quindi questo sale in macchina con questo amico di mario lo porta fino al ristorante gli presenta mario si siedono parlano un po questo qua dice sì lei è la persona giusta torno qui presto con la barra che fa per lei tant'è che antonietta che assisteva alla scena vede la sua parte che dice ho trovato uno più fuori di testa per di me speriamo che torni veramente con questa bara e infatti il 13 3 73 quale date sono fondamentali il 13 3 73 quindi tutto finale 3 si presenta questo con una barra bellissima tutta fatta a mano con tutti i bassi rilievi del pantheon del colosseo tutte le scene di roma mario dice è bellissima esattamente quella che volevo senta che cosa quanto le devo non mi deve assolutamente nulla ma davvero sì sì solo una cosa oggi è il 13 marzo 73 tutto finale 3 quando arriverà il finale 9 che sarà il 9 9 2009 dovrete pensare di prendere dei sassolini metterli sopra la bara e chi metterà il sassolino potrà chiedere un desiderio potrà tenersi sassolino e questo desiderio questa richiesta energeticamente si attuerà ma è una cosa fantastica guardi 9 9 2009 considera nel 73 9 9 e come se oggi ci dicessero nel 2060 per dire non è che ci sta di pensare e lui dice guardi sarà mia cura personale occuparmi dal 9 9 2009 ci sono tutti i sassi su tutti i tavoli cosa sta dicendo perché no 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 lei non potrà fare assolutamente questa cosa di perché ma perché lei sarà già morto 9 9 2009 questo rimane così fa tutto imbattito fa scusi ma se sono già morto allora non c'era più neanche la bara e questo lo dice lei si alza tira fuori un sasso bianco rotondo alza il coperchio della bara lo mette dentro e dice a dimenticavo arriverà un altro 13 marzo finale 3 dove arriverà una persona molto importante a cui dovrete dare questo sasso dovete farlo assolutamente non se lo dimentichi e scompare passano 10 anni 73 83 ne passano altri 10 83 93 20 anni ne passano altri 10 2003 arriva dopo 35 anni dicembre 2008 e mario detto il mago infarto muore e quindi non arriva 99 2009 lo fanno per metterlo nella bara arrivano i funzionari del comune dicono in questa bara non lo potete mettere perché non è a norma di legge non ha la chiusura zincata i gas la rava la fava e quindi quella barra che era stata messa 35 anni esattamente in quella posizione ancora tutt'oggi in quella posizione sopra un vecchio armadio della cantina e quindi prendono un'altra barra lo soppelliscono arriva al 99 2009 e antonietta che ne fa tempo si è sposata c'è dei figli dice cosa facciamo stefano il marito e a questo punto mettiamo i sassi cominciano a mettere i sassi cominciano a spiegare a tutti quanti cominci a girare la voce tutti per ridere tutto per scherzo cosa fanno prendono lo sasso vanno lì salgono mettono lo sasso il quale in cantina che fa freddo tutto tutto un umido diventa incandescente diventa caldissimo lo mettono in tasca hanno messo un libro all'ingresso del ristorante con tutte le date io sono venuta ero sterile adesso c'è un figlio io ho perso il lavoro aveva trovato il lavoro in tre giorni ci sono tutti le commenti tutte le testimonianze di questa magia che in atto quindi la gente viene a mangiare ma vanno tutti poi a mettere il sasso sulla bara fino a quando a certo punto arriva un 13 3 2013 dove arriva una persona molto importante su questo mondo chi è che arriva al 13 3 2013 vi aiuto io obama no il 13 3 2013 arriva papa francesco il quale viene eletto papa il 13 3 2013 il quale si chiama mario viene chiamato francesco come il papà di mario e a questo punto mi chiama antonietta mi dice marco adesso tu mi vuoi dire che dopo di questo pa questo sasso e portarlo al papa e io ho detto se è una cosa già scritta se è una cosa già accaduta tu non devi avere timore di nulla non ti domandare perché ma tu porterai questo sasso al papa non ti preoccupare dopo sei mesi io ho 30 foto un filmato dell'osservatore romano dove c'è papa francesco che sta un quarto d'ora davanti antonietta a sentersi tutta la storia a prendersi il sasso metterselo in tasca apprendersi la lettera metterselo in tasca ci sono tutte le foto nel ristorante a sto punto di riprendere la crosta usb c'è sì ma solo una cosa ma mentre tu raccontavi questa storia io qui sto annotando i punti salienti per poi estrarre delle clip e annoto il timing mentre tu dicevi 0 9 0 9 2009 io ho scritto leggendo 0 9 0 9 0 9 com'è possibile scusa perché nel time stiamo parlando da noi il timing non l'ho deciso io no no è perché parte non da zero a parte questo vuol significa che tutto vero significa che tutto assolutamente sincronico esatto significa che lui era perplesso cioè che era mischiato e ha avuto attacca ha avuto io ho un rapporto incredibile con le sincronicità e cioè adesso poi dopo se vuoi e te ne racconto anche alcune ma io ho proprio il canale aperto sulle sincronità quando sono connesso quando sono come dire è pronto mi avvengono delle cose incredibili e qui e anzi una cosa che una sensazione a che ho è che a me sembra che quando avvengono cioè lo sento già prima cioè sento che è un momento non che le cerco è però sento che è come se ci fosse una specie di friccicolio che sta per avvenire qualcosa sento che sta per essermi comunicato qualcosa che devo ascoltare bene ma questo ascoltare bene non è una coincidenza la coincidenza deve essere qualcosa che tu stavi pensando e l'universo fatto sempre di fellini no e tu ricevi una risposta quando meno traspetti dalla dall'universo dal mondo esteriore ti faccio un esempio non mentale no 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 mi è successo l'anno scorso una una sincronità molto significativa praticamente io ero in un'altra casa ed era una fase in cui prima del lockdown stavo proprio un po sbarellando nel lavorare in casa milano insomma era in agosto forse quando milano era un po desertano e quindi sono uscito a fare un giro dell'isolato come uno a come un criceto no ero lì da due ore al computer no esco fuori e camminando sentivo proprio che c'è sentivo tanta pressione tanta negatività il bisogno che qualcosa mi comunicasse no il bisogno di una risposta di un sentire la strada che avrei dovuto prendere in quel momento in fondo la via la città era deserta vedo due signori erano strani sembravano due due missionari no cioè sembravano dei delle persone a spirituali boh in in qualche modo da lontano loro mi vedono e da lontano mi guardano e mi indicano no e cavolo allora sono loro che devono portarmi un messaggio no praticamente si avvicinano e gentilissimi si rivolgono a me chiedendomi un'informazione io mi chiamo giovanni e mi chiedono una via semplicemente però io sentivo che in quella richiesta c'era un messaggio a per me e in pratica me la chiedono io lì per lì colgo qualcosa ma insomma era un po fuscato poi se ne vanno mentre gli spiegavo la via era come se non gli interessasse più era come se ormai il messaggio me l'avranno apportato e quello era il loro scopo quindi glielo spiego ma se ne vanno quasi subito rimango lì con questo messaggio e la via era via giovanni da milano e io lì stavo per per lasciare milano proprio cioè stavo per seguire quella ma non hai lasciato no perché poi mi ha chiamato davide e mi ha detto ti coinvolgo in un progetto e ora sono qua ma proprio in estremis sì interessante carina però hai capito vedi non te l'aspetti se qualcosa dall'esterno e ti arriva la risposta questa è una coincidenza però presentivo che prima di vedere loro che stava accadendo qualcosa ma posso dire una cosa adesso ci sto pensando scusa quei cazzi nostri però è in effetti io ti ho come dire un po stoppato in questo progetto di fuga da milano no però caspita quante quanti viaggi abbiamo fatto insieme da quando abbiamo iniziato a collaborare se ci pensi ti ho portato un po via da milano ma io lì mi sono posto tante ad esempio a paros quando quando me l'hai proposto cioè come dire sono stato molto sul mio sentire cioè ci ho pensato molto e guarda giovane che tu hai avuto un messaggio devi andartene poi come dire ho sentito che comunque sia quello che l'ho vissuto era trascendente e quindi mi sono fidato della sensazione al di là del di quel cartello con la freccia che mi aveva indicato di perché a volte c'è non sa manca me sono ne sono capitate non parecchie devo dire però qualcuna molto significativa però il significato che che si può dare ad una coincidenza non è sempre intuitivo cioè non è sempre immediato o ci può è sempre mediano e ci può stare che uno dice ma che strana sta roba poi tito se sei una persona con un minimo di sensibilità interiore ci ritorni assolutamente poi c'è beh io pratico la meditazione quindi quando medito le cose veramente importanti ritornano su galleggiano e mi è capitato tante volte di dare un significato a una coincidenza ma mesi dopo mesi dopo cazzo ecco forse quello ci stanno sì sì ci sta assolutamente tra l'altro ricordo che io tutte le mattine su telegram mando un vocale sul mio canale pubblico marco cesati cassini canale pubblico ci sono io con i miei bambini dove racconto un sacco di coincidenze proprio per far capire il significato delle coincidenze quindi questo per me è fondamentale cioè tutto parte dalle coincidenze ricordandoci che le coincidenze aiutano a aprir la mente aiutano proprio vedere avere una visuale della vita bella comprensiva non solo delle cose che ci riguardano vorrei raccontarti un paio di coincidenze perché sennò alla fine io non racconto coincidenze il mio lavoro a raccontare coincidenze quindi una che appassiona moltissimo è quella dei due presidenti perché perché qui va a dimostrare che c'è veramente la potenza la possibilità degli universi paralleli che si sovrappongono e che creano delle dinamiche identiche che tra l'altro sono state studiate anche da grandi qui scienziati quindi torniamo sempre anche nel mondo della scienza da ruba sheldrake o da kamer che era un austriaco fuori testa completamente che ha passato vent'anni della sua vita seduto su una panchina in un parco di vienna assegnarsi su un taccuino a ogni minuto ogni persona che passava per arrivare avere uno studio così fuori di melone che poteva asserire che se alle 16 fosse passato un uomo col cappello era certo al 300 per cento che l'uomo seguente avrebbe avuto anche lui un cappello talmente aveva fatto lo studio per dire quindi serie di serie la serialità no allora in questa serialità quello che è accaduto a l'ilcon e kennedy sicuramente prende una potenza pazzesca e ti porta a riflettere perché poi le coincidenze quando sono di persone famose ti porta a riflettere sulla tua vita quali sono le mie serialità quali sono le mie coincidenze che si ripetono quali sono i fatti che mi accadono per essere in grado di vederli abramo l'ilcon viene eletto al senato nel 1846 kennedy nel 1946 cento anni dopo l'ilcon viene eletto presidente nel 1861 kennedy nel 1961 cento anni dopo il vicepresidente di lico si chiamava kennedy il vicepresidente di kennedy johnson il vicepresidente di kennedy si chiamava johnson il vicepresidente di lincoln johnson è nato nel 1809 quello di kennedy nel 1909 cento anni dopo tutte e due vicepresidenti sarebbero diventati presidenti tutte e due vicepresidenti erano diventati presidenti dopo la morte ed erano tutte e due provenienti dal sud l'assassino di kennedy era nato nel 1939 l'assassino di lincoln era nato nel 1839 cento anni prima tutte e due gli assassini non sono arrivati vivi al loro processo tutte e due gli assassini sono stati uccisi con un unico colpo di colt al cuore l'assassino di lincoln ha sparato da un teatro si è rifugiato in un deposito l'assassino di kennedy ha sparato da un deposito si è rifugiato in un teatro il teatro di lincoln si chiamava ford la macchina su cui era kennedy si chiama era si chiama un modello lincoln prodotto dalla casa automobilistica ford tutte e due presidenti sono stati uccisi di venerdì tutti i presidenti avevano quattro figli di cui uno morto durante la loro presidenza tutti i due presidenti avevano nel momento della loro morte la loro moglie che tutte e due tennero il loro capo cosparso di sangue tra i romani la principale collaboratrice di lincoln si chiamava kennedy principale collaboratore di kennedy si chiamava lincoln cioè potrà andare avanti una vita sono 72 le coincidenze che assommano le due vite e uno dice non è più come dice agatha christi una coincidenza una coincidenza due coincidenze sono un indizio tre coincidenze sono una prova qui siamo a 70 quindi non può più essere neanche catalogato in quello a seguire di questa storia ce n'è una ancora più potente secondo me perché ci insegna l'ho già raccontata quella di edwin boot si già raccontato no 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 edwin boot fratello di john di john boot non l'ho raccontata ho avuto una sovrapposizione perché l'ho appena raccontata a pranzo e vedi adesso il mio cervello pensa che l'ho raccontata qua allora john boot ha un fratello che si chiama edwin boot edwin boot è un grandissimo attore shakespeariano dell'epoca calcava tutti i palcoscenici gli stati uniti ha acclamato era molto bravo ovviamente quando il fratello ha ucciso il presidente lincoln come faccio io tornare sulle sulle scene la mia famiglia frantumata la vergogna cade in una depressione pazzesca non ne vuole più sapere si chiude in casa passano tre anni edwin boot quella mattina si trovava alla stazione di treni di filadelfia c'era un sacco di gente la locomotiva stava entrando e davanti a lui 23 metri proprio vicino alla banchina un ragazzo leggendo il giornale sciva dalla banchina e finisce sui sui binari tutti che urlano tutti che sbraitano ma nessuno che fa nulla e lui ha un'intuizione una voce un qualcosa che gli dice vai e quindi non ragiona si fa strada si prende si attacca la braustra tutti che urlano perché locomotiva un po più frenare stanno per travolgere sia lui che il ragazzo dai prendi la mano prendi la mano questo con un colpo di reni prende la mano hop lo tira fuori gli salva la vita da morte certa bene bravo pacchia sulle spalle complimenti gli hai salvato la vita passa una settimana e bussa la casa di edwin boot il generale grant in persona che diventerà anche lui presidente stati uniti d'america c'è in mano una lettera gli ha deve consegnare la mano lui emozionatissimo lo vede prende la lettera l'apre la legge sbianca perché quella lettera è una letta di ringraziamento scritta dalla madre per aver salvato da morte certa il proprio figlio ma è quando legge la firma che sbianca perché la firma era quella della vedova del presidente degli stati uniti d'america abramo lincoln lui senza saperlo aveva salvato la vita al figlio del presidente ucciso da suo fratello evidente che da quel momento lui non ha più il karma si è calma se cosa ed è tornato a recitare perché qui abbiamo slide indoor cosa vuol dire che tu quel momento lì l'universo ti dà sempre l'opportunità poi tu hai quel momento decisionale di fare non fare non ti preoccupare che se decidi di non farlo te ne presenterà delle altre non è quello il problema però tu in quel momento metti che hai così hai quell'intuizione dove sempre ascoltare questa intuizione no anche nel tuo lavoro di sempre sentito intuizione ma in quel momento decidi che dopo che avuto intuizione dice ma quello chi lo conosce io riscola pelle non ci vado assolutamente cosa me ne frega è quello muore il giorno dopo leggi sul giornale che dal figlio del presidente statuniti ti mangi le palle due volte no capisci invece in quel momento lui non ha ragionato non è entrato nella logica agito ed è stato premiato settimana visto che hai parlato stati uniti no questa cosa deve questa coincidenza io penso sempre all 11 settembre e mi ricordo sempre ogni volta che c'è l'11 settembre che c'è appena stato che ce lo ricordiamo per le twin towers però è stato anche l'anno in cui appunto gli stati uniti destituire uno salvatore alliende bombardando il il parlamento del cile istituendo successivamente una dittatura che durò 17 anni secondo te quando è stato questo 11 settembre scusa non avevo detto perché anche questo è stato l'11 settembre 1973 quindi sempre la stessa data abbiamo quasi un karma che si equilibra quindi se gli stati uniti imperialisti che destituiscono capi democraticamente eletti con dittature militare sanguinarie che vengono colpiti assolutamente sì mi torna sì sì assolutamente poi arrivo a pinoce mi parla esatto cioè quindi sì sì quindi è terribile il pino cesta al saddam hussein cioè non è che cambia molto quindi non è io sono d'accordo anche se purtroppo io però un'altra versione secondo me della dell'11 9 dell'11 9 che non ci sono troppe prove che che dicano che sia tutto inaspettato soprattutto non tanto le torri gemelle che hanno molto da dire ma quanto pentagono c'è quella del pentagono è inspiegabile quindi a questo punto non ci può essere un buco così per un aereo cosa quindi la fine se si sono tante le cose sono tante le domande quindi non è non è come l'uomo sulla luna ecco ci stiamo parlando proprio di analisi molto molto reali e quindi ti vado a pensare sta cosa qua perché di fronte a miliardi e miliardi di guerra di armi di produzione ti devi generare anche il casus belli quindi secondo me è così poi che ci fosse tutto d'accordo come quello che è successo in seguità le mani insomma non è che cambia niente ma per l'arbor uguale c'è chi dice che è impossibile che gli stati uniti si fatti si sono fatti bombardare dal giappone perché avevano bisogno di un motivo per cambiare l'opinione pubblica di stati mesi ma quindi c'è esiste anche il karma delle nazioni non esiste solo il karma nazioni esiste il destino delle nazioni esiste il destino del mondo e questo destino è generato dalla somma di tutte le intenzioni tutti quanti però ogni ogni nazione ha il suo il suo ruolo nel nel mondo intero quindi sono anche qua degli equilibri e anche qua abbiamo bene e male qui sono le nazioni scellerate e le nazioni sane che reggono il mondo tu sicuramente saprai che io credo fermamente nell'esistenza di shambhala nonché chiamata shangri la perché perché innanzitutto ci sono fior di libidi ricercatori ma soprattutto perché esistono delle persone che con la loro energia mentale riescono a sostenere energeticamente quello che abbiamo appena detto di questo male di questa di questa situazione squilibrata cioè shambhala il popolo il popolo che vive sottoterra no quella agartha agartha un'altra cosa e si chiamano endo terrestri e sotto un'altra cosa quei sette ingressi nel mondo di cui uno più famoso è quello al polo nord dove il famoso avviatore bert fini lì dentro e poi uscì e poi raccontò e anche di queste cose non se ne vuole parlare ma poi c'è una problematica magnetica e via dicendo però adesso gli endo terrestri per esempio il mio il mio maestro me li insegnò meglio espose e me li spiegò quindi anche su quello e tra l'altro la scienza dice la stessa cosa perché il sole degli endo terrestri è un punto d'incontro di tutti i raggi cosmici che sono dentro la terra a 3.500 metri all'interno quindi noi abbiamo una terra che per 3.000 il diametro è 12.000 per circa se 3.000 di qui 3.000 di qua c'è terreno e poi è vuota e quindi vuota cosa vuol dire cosa c'è c'è un altro mondo un altro mondo comprati montagne una luce che è generata dall'incrocio dal lo scontrarsi di questi raggi cosmici che formano un sole e dentro ci abitano praticamente circa 100 milioni di endo terrestri in questa agarta che sono molto più avanzati di noi e per il quale possono essere sia qui in questa nostra dimensione nostra dimensione insomma in questa superficie che dentro il loro mondo cioè entrano e escono entrano e escono e quando gli feci la famosa domanda ebete ma scusa come fanno da qui alla cosa il fame loro stanno molto avanti noi quindi loro conoscono i segreti della materia possono smaterializzarsi e rimaterializzarsi e io li a questo punto feci un ragionamento ma se io prendo questo cellulare e oggi siamo nel 2021 e vado nel 21 da giulio cesare e gli dico senti giulio ti piace questa roba e lui la prende che è sta roba e qui parli con tutto il mondo internet cosa vi dicendo gli spiego un po' di cose secondo me giulio cosa fa che era romano a me ne dai un'altra pure me o dice guardie leoni pasto subito immediatamente perché è così allora perché non posso ammettere qualcosa di per me inconcepibile impossibile che venga qualcuno dal 4000 e venga nel 2000 dire a ma lo sai che noi nel 4000 facciamo e rispondo al telefono questo ancora poco forse facciamo facciamo cose che per me impossibili quindi io dico sempre che non esistono le invenzioni esistono le scoperte ma tutto è già accaduto devi semplicemente arrivare mano mano ecco questo un po il punto quindi io credo anche all'indotterrestre e l'italia come messa a livello di karma l'italia ha un karma potentissimo è un fanale del mondo è sempre stato un fanale del mondo e per questo è sempre in in situazioni pericolanti perché il canale deve dare l'esempio da una parte dall'altra e quindi è croce delizia del mondo è un fanale non per non per niente la cultura è tutta qua dentro per niente i geni non per niente tutto quanto la bellezza di dicendo devi pagare il pegno di questo la biodiversità cioè tutto è un esempio assurdo l'italia la spagna la conosco profondamente con tutto l'amore che posso dire per la spagna l'italia è un'altra cosa è un'altra cosa quindi c'è poco da fare e stavo dicendo che tante volte il destino di una nazione lo possono generare anche poche persone non a caso il 4 luglio del sette del 1776 se ben ricordo la costituzione degli stati uniti d'america avvenne grazie alla decisione di una carta che venne fatta da 56 persone 56 che scrissero ma non 56 persone che contavano che scrissero una lettera a re enrico d'inghilterra dicendo che loro non accettavano le leggi imposte dagli inglesi sui loro territori dicendo e per enrico questo era un atto di guerra e quindi cominciò la guerra che però venne vinta quindi 56 persone decise il destino di tutto un territorio enorme come quella degli stati uniti d'america quindi è come dire che a un certo punto arrivi a un momento che ci vuole proprio una goccia un soffio per per cambiare il destino di qualcosa e così anche nella tua vita ok il famoso detto un battito d'ali di farfalla in brasile può generare un uragano in giappone che poi nessuno sa perché si dice questa parola perché negli anni 70 un noiosissimo meteorologo inglese con i suoi macchinari anni 70 talmente annoiato che le previsioni di millibar erano sempre le stesse un giorno decise di mettere un 00,1 per fare qualcosa di diverso non si rese conto che nel giro di pochi giorni erano scattati degli allarmi dall'altra parte del mondo di uragani inesistenti perché la somma delle informazioni di tutte le stazioni avevano dato l'avviso di un arrivo di quindi ecco che lì nacque anche poi questa questa frase incredibile tutte queste frasi nascono sempre da fatti pazzeschi come per esempio tu sai perché porta sfiga venerdì 13 venerdì 13 nella testa della gente tu sai che non esistono le file 13 negli aerei dicendo anche l'iphone 13 non volevano farlo poi l'han fatto alla fine venerdì 13 perché da sempre nella nostra cultura mondiale venerdì 13 porta sfortuna poi ci hanno messo anche venerdì 17 ma prima venerdì 13 perché venerdì 13 ottobre 1307 quindi stiamo parlando di roba di 700 e 8 anni fa vennero arrestati simultaneamente in tutta europa per un accordo tra filippo il bello e papa clemente quinto tutti i cavalieri templari perché filippo il bello era finito sul lastrico e il papa era preoccupato perché templari diventati troppo potenti quindi fecero un accordo segreto fu il primo la prima azione di polizia tipo digos europea dove vennero tutti svegliati torturati incarcerati uccisi fuggiti jacques de mole venne portato a parigi dove rimase nelle segrete per cinque anni venne arso vivo nel 1312 nella piazza da bastiglie con gli occhi che uscivano dalle orbite disse sia re che il papa mi seguiranno entro l'anno infatti tutte e due morirono di morti accidentali non assassinati tutte e due entro l'anno ma da allora questo venerdì 13 fu terribile tant'è che i rosencruz che fondò i rosa croce cento anni dopo mise come primo comandamento di rosa croce che esistono tutt'oggi l'anonimato cioè non dita nessuno che siete rosa croce perché guardate cosa hanno fatto cosa hanno fatto ai templari quindi lasciate perdere e quindi però da allora è purtroppo con questa anomia il venerdì 13 si è portato sfiga e poi venne famosa anche la cena il pranzo fatto da un noto poeta inglese che organizzò nel mese di agosto una cena ed erano in 13 ripresero la storia del dei templari e disse lo sapete che c'è anche una diceria che il primo che si alza da questo tavolo morirà entro l'anno ed era agosto e allora uno simpaticamente disse sapete cosa c'è io tom e john ci alziamo uno due tre si sono tirati su sotto l'applauso generale sono andati dentro l'anno sono morti tutti e tre e quindi da lì nacque poi tutta un'altra un'altra vicenda hai parlato di templari al castel del monte si diciamo quello di famoso sopra barletta in puglia c'è l'ho visitato qualche anno fa e la guida raccontava tutte le stranezze di quel luogo e a un certo punto mi fa solo a me l'ha detto tra l'altro sta cosa quindi io mi sento molto un cavaliere reincarnato no scherzo non mi fa guarda la vericola finestra ecco guarda adesso l'ombra che proietta praticamente c'era una finestrina ma piccolina e nel muro che non aveva senso di esserci perché non è che doveva illuminare qualcosa faccio proiettava solo un'ombra diciamo un'ombra una luce sull'ombra della del muro e proiettava il logo del logo insomma sì simbolo dei cavalieri templari di malta che c'è nella bandiera di malta e quindi anche lì c'erano ma erano nascosti c'era l'unico però è rimasto nei secoli quello con la luce lì pazzesca sì 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 il motivo è solo quello questo perditi come noi siamo costruiti su luoghi comuni e cose che si tramandano se la gente avesse la capacità di realizzare la sua forma pensiero il mondo sarebbe molto diverso però così deve andare così io dico sempre che c'è un ordine delle cose dove dentro il disordine fa parte dell'ordine quindi non puoi modificarlo quindi è così che deve andare le ultime tecnologie oggi viviamo immersi se c'è una cosa che caratterizza il nostro mondo contemporaneo proprio la pervasività tecnologica credo questa questa situazione funzionale al risveglio c'è in che modo possiamo utilizzare queste tecnologie per per evolverci piuttosto che morire se devi fare una somma dei pro e dei contro per esempio sul cellulare internet siamo più sul pro che sul contro perché se tu pensi negli anni 80 tu devi andare in biblioteca certo mettiti libri così e con una pazienza certosina andare a cercare la notizia qui scrivi il nome ti viene fuori il mondo capisci quindi che ti perdi nelle montagne e mandi un segnale ti ritrovano insomma comunque diciamo ci sono le funzioni poi come sempre c'è sempre aspetto opposto però secondo me è positivo perché la cosa devi saperlo valutare di saperlo poi gestire ecco quindi equito nel mio solito discorso dei barontici di annontici cosa quindi ovviamente il sistema si rifà molto al barontico che esegue quello che riceve nella sua pubblicità nella sua comunicazione e quindi fa il 5g nel 5g e tutto quanto io dico sempre che le cose bisogna prenderle un po con le pinze un po pianino no cioè io il cellulare 9 e mezza lo metto in un'altra stanza non tocco più non è che sto lì col cellulare fino alla mattina dipendenza lo tengo vicino a me le onde lo metto la e arrivederci insomma deve essere poi oppure dei periodi dove il cellulare non lo usi o ti stacchi ti disintossichi perché sono diventa ci sono delle applicazioni ti dicono quante volte tu accendi il cellulare lo guardi è impressionante sì 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 è una roba che tanta volta al giorno 80 80 non lo guardi se fai 80 non lo guardi centinaia e centinaia di volte altra che 80 quindi lì ti domandi fin dove arriviamo questo è il mondo che va in questa direzione quindi bisogna saperlo accogliere e accettare ecco per esempio pensate alla tv generalista di oggi perché secondo voi la tv generalista va ancora perché c'è ancora il grande fratello l'isola dei famosi queste trasmissioni trash vi dicendo perché c'è un pubblico che non è cambiato non si è evoluto quindi il pubblico nuovo che sono i ragazzi guardano molto poco sono altrove ma tutto questo che ancora esiste non sono ancora morti sono lo zoccolo di di questa di questa tv che esiste ancora che comunque sanno che piano piano se ne andrà ecco questo è un po il concetto vedo che ripeti spesso questa suddivisione in tre diciamo può dire classi e brutto tre caste 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 tre livelli livelli di consapevolezza guarda ti spazzo subito via quello che stai per chiedermi non lo puoi sapere non lo puoi sapere il mio barontico più vicino mio fratello gemello eravamo la sessa pancia per dire però lui è barontico cioè quando mi dice ma cosa fai sabato domenica rosma e ho un corso sul destino le coincidenze ancora con le stronzate lì questa è la risposta che mi dà capito quindi ce l'ho in casa quando dico 70 per cento di che 70 per cento le persone che tu frequenti sono barontiche perché tutti abbiamo il nostro 70 per invece l'ultimo livello si chiama entelico ma l'entelico è giusto che aiuti il barontico o lo deve lasciare nel reno nella barontitudine è no è no fondamentale esatto è fondamentale ma non è che deve per forza fare conferenze o coach lo può aiutare in mille modi assolutamente anche un collega di ufficio o il guidatore di un tram cioè non è non è quello il punto ognuno deve apporre dare il suo contributo però ripeto purtroppo la regola è quella se ti vuoi risvegliare il barontico passa da una posizione di letargo a una posizione di risveglio solo attraverso il trauma il trauma è proprio il catino d'acqua gelata che ti arriva in faccia quindi hai un incidente finisce su una carrozzella perdi la moglie perdi il marito perdi tutti i soldi ti rubano in c'è di avere un qualcosa che ti sciocca e ti diceva sciocca dizionale che quelli però erano sì i quasi intenzione non intenzionali però lui diceva per il pennello legge dell'ottava sai d'ore e mi studiato è un intervistatore coi fiocchi questo quasi a dire il lo sciocca dizionale o te lo cerchi tu oppure ti arriva tra capo e collo è giusto se ne ha sordo esatto però poi come lo gestisci quindi e quindi non è che tu puoi essere in grado d'altronde battiato diceva c'è il concentro di gravità permanente che sono le parole che diceva gurdjieff quindi come fai a mantenere un centro durante la giornata e se tu sei in balia continuamento delle tue emozioni quindi a seconda l'emozione che hai tu cambi la testa quindi è una cosa molto difficile lui diceva col lavoro però sai il lavoro commento e come imponeva gurdjieff è una roba da fuori di testa insomma io sono stato a fontainbleu e vedere quel posto e ti assicuro che già vederlo da fuori dici e cos'è a fontainbleu e dove c'era la sua il priore dove c'è il priore dove ci sono passati fior di persone che hanno avuto esperienze incredibili dalla man catri manfield ad altre che come come dire devi avere veramente il coraggio a parte uspenschi ma devi avere anche il coraggio di essere di mollare tutto e di andare a rivoluzionare la tua vita e anche qui abbiamo poi comunque come sempre di tutti i grandi maestri i due opposti perché non esiste maestro forse krishnamurti che non era comunque col suo lato b perché tutti avevano un lato b di osho documentario ne pensi orange county ma che si chiama wild wild country io avevo già letto un libro che si intitola mai nato mai morto dove racconta tutte le sue con tanto di foto e tutto che già quello era un film quindi è interessante questa cosa che hai detto mi piace non l'avevo mai sentita cioè che anche i guru hanno il lato b assolutamente sono esseri umani non è che sono dei messia che arrivano di quelli ne contiamo 4 5 appunto e quindi loro hanno la loro parte oscura per esempio a ivanov che in francia è è considerato come un santo era un puttaniere di prima categoria ma di quelli proprio faceva le peggio cose gurjeff era un tossico di di liquori di fumo e di bambini con le caramelle sempre intorno sono una persona che comunque non era pulita da quel punto di vista qualsiasi tu vai a chiamare erano quasi tutti così perché avevano comunque bisogno anche loro di avere per attingere al positivo di avere la loro parte negativa se no è un po difficile andare avanti questo è il punto fondamentale forse trovo pensando forse krishnamurti non è secondo me uno che è riuscito a fare una vita bella pura bella luminosa quindi ci sta viene in mente quel documentario che sembra fatto a posto un po per sputtanare oscio perché a me mi ha intrattenuto tantissimo perché fa totalmente bene la storia raccontata con i giusti trucchetti di sceneggiatura e anche con una regia un montaggio fantastico però da lettore di oscio ultra decennale trovo uno stupro parlare di lui senza parlare di quello che ha detto lui in maniera così volgare cioè far vedere solo che la si si coltivava un po poi a un certo punto si scopava poi a un certo punto si gridava no però non puoi eludere la violenza di luce dell'insegnamento di oscio nuova fresca modè ancora adesso avanti nei tempi e non metterla c'è una scelta pornografica è una scelta ogni azione corrisponde nazione quindi questi è contraria il mondo si basa sull'invidia per esempio per me l'invidia principale risiede in internet su wikipedia per dire se tu vuoi vedere wikipedia di persone che tu conosci e che è studiata a fondo leggi delle nefandezze terribili perché perché sono gli altri che scrivono parliamoci chiaro qui c'è un sistema qui c'è un equilibrio che deve rimanere non puoi andarlo a infrangerlo quindi devi descrivere le cose in un certo modo quindi se qualcuno se tu vuoi leggere sulla blavasky la blavasky è intesa come un'impostrice non è intesa come una è tutto così e quindi devi saper cogliere io abito ibiza io quando parlo ibiza a 100 persone 90 persone ma che ti piace ballare drogarti questo è quello che mi chiedono sempre dico perché perché questi hanno visto solamente quello in televisione drogare ballarsi guarda che ibiza il cliente principale la famiglia ci sono 72 spiagge c'è una luce stupenda c'è perché divisa in due vero mi hanno detto che abbastanza c'è una parte sud che ma sud tutto va bene io ti consiglio cala molica la vedeia vadeia perché è più leggermente più tranquilla ma se comunque attaccata alle spiagge più belle ai dei tramonti da urlo hai delle spiagge meravigliose mangi benissimo un sogno diamo che se mai vorrei andare ibiza tu mi devi prima contattazione io ti mando una relazione personale e così sai cosa cosa devi fare cosa non devi fare ti dico dove devi andare non devi andare grazie a tutto sono 26 anni sono adesso non voglio dirti ma la mia patente è spagnola la mia testa sanitaria è spagnola cioè io sono spagnolo vero quindi per me è inton se si chiede habla castigliano hablamos castigliano e vamos a hacer una conferencia nel castigliano joder lo presupposto es che tenemos che conversare hai cambiato look tante volte ti ho visto con la barba no la barba è stato un periodo è stato un periodo limitato a due tre anni perché la mia compagna che ha vent'anni di meno diceva che con la barba le dimostravo di meno e quindi mi fece prendere la barba poi ho detto mi sono andato allo specchio e ho detto ma che cosa sto facendo mi sto facendo condizionare questa sbarbatella e me la sono tagliata ma non te la tagliare se me la taglio allora era il periodo in cui andava di moda la barba no che era tre anni fa il hipster ti voleva un po più lasciamo perdere marco io andrei avanti tutta la sera ma qualche argomento l'abbiamo toccato qualche qualche storia l'abbiamo detta lo chiudiamo con una bella coincidenza a chiudiamo prima della coincidenza chiudiamo con le abbiamo già detto se qualcuno vuole continuare proseguire il tuo percorso ci sono un sacco di libri a leggere il karma l'ultimo uscito a gennaio esce la parola la formula di dio di dio sempre per sperling e un sito internet o tre siti scuola del destino punto it non siamo qui per caso punto it non siamo qui per caso punto it e marco cesati cassin punto it quello dove metto tutti gli eventi corsi è su non siamo qui per caso punto it se volete venire a fare questo ritiro con me e con questa meravigliosa donna sul destino le dipendenze 6 7 novembre alla abbazia di maguzzano scrivetemi su scuola del destino chiocciola gmail.com se volete fare un coach con me dura un'ora e mezza e io vi ribalto come una cotoletta ma vi assicuro che vi rimetto a posto mi contattate scrivete costo pochissimo e che altro dirvi sono a vostra disposizione perché il mio compito è qua per aiutarvi e per comunicare quindi grazie marco se è stata un dialogo tra tra anime in qualche modo connesse assolutamente non mi aspettavo un intervistatore così preparato in genere sono delle bestie pazzesche quindi troppo gentile troppo gentile in realtà si vede si vede che hai la passione della ricerca si studi un po mi piace preparare un po le puntate perché forse non è solo faccio le puntate qui c'è dell'altro quasi è qualche decennio e nei ritagli di tempo purtroppo perché al contrario di te non riesco a fare il ricercatore full time però è un obiettivo che mi sto ponendo nella terza parte della mia vita perché mi piace molto e forse quel microchip di cui parlavamo prima potrei trovare a te il microfono per l'ultima l'ultima coincidenza questa è forse la marco gesati cassin grazie di essere venuto ok siamo a fine 1800 estate fa un caldo terribile un contadino staranno i campi a un certo punto sente un bambino che urla aiuto aiuto ancora vedere in mezzo un cannetto c'è un bambino che sta sprofondando nelle sabbie mobili ormai mancano pochi secondi scompare il contadino aveva in mano un rastrello quindi non è che poteva fare molto invece con la collaborazione del bambino piano piano dai che ce la facciamo piano 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 lo tira fuori delle sabbie mobili e gli salva la vita la mattina dopo esce arriva davanti a una catapecchia una bellissima carrozza con dentro il bambino salvato il giorno prima e a guidare la carrozza il papà di questo bambino esce dalla catapecchia il contadino guarda tutto sorpreso questa carrozza e domanda che ci fa lei qua io sono qua perché lei ha salvato mio figlio ieri sì ebbene io la voglio ricoprire d'oro perché per me è la cosa più importante che ho ma guardi l'avrei fatto per chiunque non si preoccupi no ma io insisto mi dica che cosa vuole perché lei ha fatto un gesto meraviglioso mio figlio vanno avanti un po con quel vonevolo lui che non vuole soldi lui che gli vuole dare a certo punto ringrazia ancora una volta il ricco signore gira il suo cavallo e fa per andarsene mentre gira il cavallo e fa per andarsene con la coda dell'occhio vede uscire dalla catapecchia il figlio del contadino che allora aveva sette anni che doveva chiedere una cosa a suo padre se quel bambino fosse uscito dieci secondi più tardi e quel ricco signore non l'avesse visto con la coda dell'occhio uscita da catapecchia il destino dell'umanità sarebbe cambiato e invece lui ha visto questo bambino ha fermato il cavallo ha detto scusi ma quello è suo figlio sì beh allora mi lascio l'opportunità assolutamente di pensare sui studi lei non potrà mai mandare la scuola e in effetti allora un po difficile che il contadino potesse pagare gli studi quindi accettò quei soldi il ricco signore mandò a scuola suo figlio il quale studiò molto bene si laureò in medicina scoprì la penicillina salvò milioni di persone ottenne il premio nobel della medicina il suo nome era alexander fleming il figlio del ricco signori sarebbe ammanato di broncopolmonite sarebbe stato salvato dalla penicillina scoperta dal figlio del contadino avrebbe anche lui ottenuto un premio nobel premio nobel della letteratura e il suo nome era wyston churchill non ti fermare mai con la vita la vita è magia ci devi solamente credere e allora la magia diventerà anche per te marco cesati cassino al bazzar atomico grazie ciao a tutti